Regaliamo sogni! Autovilla Ford Partner per Milano Nord via Spetta nello showroom di Viale Gramsci e nella sede storica di Viale Casiraghi a Sesto San Giovanni. Due grandi esposizioni per ammirare tutta la gamma delle autovetture e dei veicoli commerciali Ford ma da Autovilla troverai anche un vasto parco di autovetture usate ed aziendali di tutte le migliori marche del mercato tutte garantite e ai migliori prezzi. Da sempre Ford Autovilla è esperienza e serietà. Autovilla in Viale Casiraghi 504 in Viale Gramsci 757 a Sesto San Giovanni. Auguri da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Diavolina, tutta la magia del fuoco. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera, buonasera, benvenuti. Una puntata un po' speciale, quella di questa sera. Siamo in onda di martedì invece che di lunedì ed è una puntata un po' particolare. Stiamo aspettando tutti le elezioni del Capo dello Stato. Ovviamente la prima votazione sarà giovedì, ma noi questa sera ci occupiamo di altro, ovvero ci occupiamo innanzitutto della prima parte della trasmissione dell'euro, perché quando si parla di crisi economica, cioè purtroppo sempre, una delle spiegazioni che vengono date è quella del problema dell'euro. Quanto conta essere dentro la moneta unica per risolvere i nostri problemi? Ci sono sempre più economisti esperti che dicono che sarebbe il caso di uscire dalla moneta unica o almeno che si pongono il problema e si chiedono quali sarebbero i vantaggi e i disvantaggi. Ci sono invece i sostenitori della moneta unica e dell'euro che ritengono che fuori dall'euro l'Italia peggiorerebbe la sua situazione in maniera drammatica. Quindi noi questa sera, come abbiamo fatto il 14 dicembre, affrontiamo senza tabù, senza nessuna idea preconcetta il problema dal punto di vista economico e anche per spiegare in maniera il più chiaro possibile a voi quali sono le caratteristiche, i vantaggi e i disvantaggi della moneta unica. Poi alle 22.20 ci sarà un cambio di scena e sarà ospite qui con noi nel nostro studio il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, per parlare un po' di tutta la situazione dai Rom al bilancio, sapete che mancano 400 milioni per chiudere il bilancio alle domeniche a spasso, aria C, insomma un po' di tutto con un occhio anche alla elezione del Presidente della Repubblica. Quindi questi gli argomenti di questa serata puntata da non perdere come al solito siamo sul digitale terrestre, siamo su Sky, Canal 830 e siamo anche come sempre in streaming. Gli ospiti, essendo una puntata particolare, gli ospiti sono esperti di euro e di moneta e di economia. Dol, bentornato a Claudio Borghi Aquilini, buonasera. Buonasera. Sono abituata a vederla dall'altra parte. È vero. È vero. Abbiamo cambiato, perché come si dice, cambiando l'ordine di fattore il prodotto non cambia. Economista, io ho messo tutti e quattro gli ospiti questa sera, le sottopancio anche l'account Twitter perché così chi guarda la trasmissione e voresse poi dialogare con i nostri ospiti può utilizzare anche Twitter, è at Borghi underscore Claudio, giusto? È un po' complicato e poi dopo uno dei nostri vecchi ospiti che era Puglisi odia il trattino sotto però purtroppo Claudio Borghi è allenatore del Cile e quindi c'erano 5.000 account falsi di Claudio Borghi. Bimbo Alieno, senza trattini. Senza trattino, poi mi verrebbe da chiederle perché Bimbo Alieno, magari glielo chiedo dopo. Magari ne parliamo. Magari ne parliamo dopo. Molto attivo anche lui sui social network e su Twitter. Politici che si occupano di economia e di moneta, eccoli qua, bentornato a Massimo Garavaglia che è assessore al bilancio della giunta Maroni in Regione Lombardia, anche senatore quindi sta per partire per Roma per l'elezione del Presidente della Repubblica. Sì, vediamo che succede, è interessante. Vediamo che succede, infatti quindi Lega Nord e poi anche lui c'è l'account Twitter Massimo Gara, non ci stava tutto presumo. Ovvio. Beh, anche io sono Adri Santa Croce, perché noi che abbiamo nomi e cognomi lunghi dobbiamo accorciarci. Bentornato anche a Nicolò Bastianini, buonasera. Buonasera. Benvenuto di Italia Futura, che fa parte di vicino alleata scelta civica, quindi possiamo dire vicino all'attuale Presidente del Consiglio Monti, giusto? Possiamo dirlo. Possiamo dirlo, anche lui all'account, è Nick Bastianini, giusto? Anche qui c'è una contrazione per forza. Senza nomi d'arte, giusto. Va bene. Allora, come al solito c'è il nostro sondaggio, entrate sul nostro sito, al solito, gioie e dolori dell'euro, ci conviene restare sì o no e trovate il sondaggio, sarebbe giusto secondo voi uscire dall'euro? Entrate e trovate sì, no oppure non ho strumenti per decidere. Io ho voluto mettere questa opzione, Garavaglia, perché secondo me si abusa un po' a volte del termine referendum, tutti possono decidere su tutto. La questione dell'euro secondo me è molto delicata, quindi magari c'è qualcuno che dice io non ho, non lo so, non ho la competenza adatta e quindi barra questa casella. Grazie. Vediamo il servizio che ha preparato Giulio Corea che ci spiega un po' cosa sta succedendo in Europa, perché noi parliamo di euro qui, euro sì, euro no, ma lo fanno anche in altri paesi in Europa. L'euroscetticismo invade l'Europa. Dalla Germania alla Francia, dall'Austria all'Italia sono molti paesi dove nascono movimenti che vogliono contrastare la politica economica dell'eurozona e tornare alle loro monete nazionali. Procediamo con ordine. In casa nostra il Movimento 5 Stelle di Grillo ha proposto un referendum sulla moneta unica europea, di pari passo la Lega Nord che si pone dei dubbi sui vantaggi dell'euro. Sulla moneta unica anche Silvio Berlusconi si è espresso con profondo scetticismo. L'ondata anti-euro sbarca anche a Berlino. In Germania il partito di Bernard Luke correrà per le elezioni di settembre. La proposta? Sfidare la Merkel, uscire dall'euro e dividere l'eurozona in nord e sud. Sulla stessa linea Vienna, il partito austriaco di Franz Schoenach con oltre il 18% di consenso popolare vorrebbe annullare i piani di salvataggio dell'Unione Europea e trattenere i soldi entro i propri confini. Non manca la Francia, anche Parigi ha il suo grillo. Si tratta di Marine Le Pen, 18% di consenso alle ultime elezioni. La leader del fronte nazionale vorrebbe tornare al franco. Amsterdam e l'Olanda hanno il loro esponente no euro. Si tratta di Gerard Wilders che ha proposto una riforma per contrastare i sacrifici in nome della moneta unica. Anche qui l'esponente olandese non esclude il ritorno al fiorino. E infine la Gran Bretagna. Il partito di Nigel Farage si dichiara scettico nella permanenza in Unione Europea e chiede di tornare ad essere un paese indipendente che falleva sulla sterlina. Euro sì ed euro no. Basterà questo per far tremare i piani alti di Bruxelles? Allora, professor Borghi, io leggevo che anche l'economista, il noto economista Soros, diceva che forse una delle soluzioni sarebbe addirittura che la Germania uscisse dall'euro. Non noi, i paesi più deboli, ma la Germania che è il paese più forte. Innanzitutto Soros se ne intende abbastanza di questioni di monete e di cambi fissi perché deve gran parte della sua fortuna ad aver capito negli anni 90 che il primo tentativo di mettere insieme l'euro, vale a dire lo smè, non avrebbe potuto reggere. E infatti ci ha scommesso contro ed è assurdo a fama planetaria proprio perché da privato con gli strumenti della finanza è riuscito a far capitolare due stati sovrani, vale a dire che nel 1992 furono costretti a uscire dal sistema di cambi fissi e dopodiché svalutare. Lui aveva scommesso contro la lira e contro la sterlina e fece un sacco di soldi perché giocò a ribasso su queste valute. Però anche all'epoca notò semplicemente una cosa molto banale, vale a dire nel momento stesso in cui degli stati hanno delle divergenze fra le loro economie, queste forze si devono scaricare da qualche parte. In quel momento una delle possibilità che c'era per scaricare queste forze era ovviamente quella più naturale, quella più logica, vale a dire la svalutazione delle monete, che era tenuta ferma da accordi fra i diversi stati. Il ragionamento proprio banale che si fece all'epoca è se io ho stato italiano, voglio difendere la mia moneta e quindi dico che una lira uguale a un marco, lasciamo perdere giusto per capire, che erano le proporzioni diverse ma giusto per capire il concetto, l'unica cosa che posso fare è comprare nel momento stesso in cui la gente vende le lire, è comprare le lire, ma per comprare le lire devo usare come moneta, un'altra moneta, vale a dire i marchi. Quando finiscono i marchi in cassa e non ho più niente per poter comprare le lire, non posso stampare lire, che è la cosa che si poteva fare all'epoca per comprare lire. E quindi cosa succede? Soros ha fatto un ragionamento molto semplice dicendo prima o poi tu finisci le munizioni e quindi essendo che le munizioni tu le finisci io ti impallino. Così successe, lui guadagnò e teniamo presente che chi invece non capì questa cosa elementare all'epoca fu la nostra coppia di governo dell'epoca che era Ciampi come direttore della Banca d'Italia e Amato come Presidente del Consiglio che viene dato adesso come candidato. Ora, chi fa un errore così macroscopico come fu all'epoca quello di non capire questa elementare condizione, vale a dire che è impossibile andare in una gara dove vince chi ha più proiettili avendo il numero di proiettili contati, mentre invece dall'altra parte c'era chi ne aveva illimitati. Allora a quel punto lì cosa succede? Un errore così grave che ci costò delle cifre inimmaginabili dovrebbe essere diciamo così interdetto dai pubblici uffici quantomeno per idiozie, invece ne abbiamo premiato uno facendo Presidente della Repubblica e l'altro è in fila per ricevere lo stesso premio. Questo però, questa è l'analisi del 1992, adesso guardiamo, il problema è capire che cosa è. La situazione odierna è esattamente uguale con una difficoltà in più, vale a dire le monete io posso fissarle con un accordo diciamo fra stati e tenere i cambi fissi, oppure posso fare un'ulteriore camicia di forza, vale a dire, insomma dato che prima non riuscivo a saltar bene, adesso metto una roba proprio che non si può rompere da questo lato, vale a dire metto una moneta unica che è quello che abbiamo, ma le divergenze fra le economie ci sono ancora. E le vediamo, è certo. E allora si devono sfogare in qualche altra maniera e si sfogano nelle maniere più perniciose, più distruttive, perché se all'epoca ci fu quella svalutazione e poi dopo invece una volta finito questo incubo e preso il mercato e dato agli stati il giusto peso che devono avere sul loro cambio, l'economia ripartì. In questo caso invece queste divergenze si vanno a ripercuotere in maniera sempre più virulenta dando origine a tutto quello che adesso noi guardiamo. Però quindi una soluzione boda è quella, loro dicono, il sostenitore dell'uscita dall'euro è quella, ci separiamo ognuno per sé e quindi con la svalutazione l'economia riparte. L'altra soluzione è, visto che come dice il professor Borghi, ci sono delle differenze abissali e togliere le differenze, cioè fare un'unione fiscale, un'unione più forte anche politica che impedisca queste differenze. Questo credo che vi divide di più. Sì esattamente, il discorso è appianare le divergenze perché adesso non voglio entrare nel campo delle metafore dove Claudio è un maestro, però se io ho un'automobile che consuma di più la ruota destra perché ha una convergenza sbagliata, nel momento in cui io cambio le gomme e non correggo la mia convergenza, entro poco tempo avrò di nuovo bisogno di intervenire sulla gomma che si rovina di più. Per cui siccome i problemi dell'Italia sono molteplici e vanno da un tasso di corruzione, un tasso di criminalità, un tasso di burocrazia nettamente superiori tutti quanti alle medie dei paesi occidentali, noi ci troviamo con un'economia che ha delle difficoltà, un imprenditore italiano per essere competitivo con i suoi pari esteri deve essere in realtà più competitivo di loro perché deve compensare delle situazioni. Se io penso di risolvere tutto questo cambiando moneta, in realtà mi sto ingannando perché non risolvo assolutamente nulla, mi metto solo nelle condizioni di dover periodicamente correggere le distorsioni che creo con un sistema fallace e con delle svalutazioni periodiche. Cioè lei dice all'inizio la svalutazione sarebbe proficua? Senz'altro è una boccata di ossigeno che mi dà... La boccata di ossigeno però poi ci troviamo ancora peggio di prima, è questo che sta dicendo. Diciamo non risolvo nulla, quindi mi do una boccata di ossigeno, guadagno del tempo... Non fare il mal di testa con l'aspirina ma senza causare... senza curare la causa del male. Va bene, adesso sentiamo i due politici ma prima mando un po' di pubblicità. Da Jaguar Monza potrai trovare una vasta scelta di XF aziendali. A partire dal 2011 tutte con i Vesposta a partire da 32 mila euro. Visita il nostro sito jaguarmonza.it Ma chi l'ha detto che Bertoni è solo campeggio? Bertoni ha uno stile di vita con le pinne, fucile ed occhiali. Guardate il reparto mare, uno spettacolo i salvagenti, le scarpine per i bambini, le scarpe da scoglio, le ciabatte di tutti i tipi le maschere, i boccagli. Bertoni, campeggio sport, Viale Fuglio Testi 140, Ciniselo Balsamo. Ciao ragazzi, sono Mauro Valli, da vent'anni in macchine americane per passione e per professione abbiamo selezionato un po' di auto per voi. Seguiteci. Raptor nuovo pronta consegna 53 mila 500 euro più IVA. Dodge Ram nuovo pronta consegna 43 mila 500 euro più IVA. Dodge Ram usato 5.7 Emi GPL 23 mila 500 euro. Dodge Ram usato 4.7 V8 21 mila 500 euro. Scopri il mondo valli su vallistore.com Amici, da 12 anni Griglia di Partenza vi tiene compagnia ogni settimana per parlare di motori Formula 1, MotoGP, Superbike e tutto quello che ha un motore. Ogni giovedì sera 20 e 30 in diretta su Telenova per la Lombardia, Telesubalpina per il Piemonte e Sky 830. Parliamo della vostra passione, non mancate! Rieccoci. Allora, stanno arrivando tantissimi tweet, dopo magari ne leggiamo qualcuno, l'account lo ricordo è at linea Telenova. Senatore Garavaglia, voi come Lega avete, insomma avete detto già da diverso tempo, poniamoci il problema almeno, no? Chiediamo alla gente cosa ne pensa? Noi siamo critici sul sistema, soprattutto assolutamente critici sulla soluzione posta che è il fiscal compact, tant'è che abbiamo votato contro, perché secondo noi quella è veramente un'idiozia di dimensioni colossali. Avevamo proposto un referendum, una proposta di iniziativa popolare su questo, ma più che altro per far capire qual è l'impatto del fiscal compact. Mi collego un po' a quello che diceva Borghi prima e Bimbo Alieno, che è troppo bello come è. Sì, veramente Bimbo Alieno è eccezionale. Vabbè, prima, nel 92 io ero studente alla Labocconi, mio papà operava alla Borletti, mia mamma a Casalinga, mio papà ride ancora adesso, mia mamma no, buonanima, perché gli feci spostare tutti i bot in titoli tedeschi e vabbè, è contento ancora adesso, ride ancora adesso quando glielo racconto. Ma come mai? Ma perché in una banale lezione ti insegnano che tu puoi fare una moneta unica dove c'è un'area omogenea. Bimbo Alieno dice, noi abbiamo uno squilibrio e si mette a posto, l'economia lo mette a posto, nel lungo periodo, nel lungo periodo però sono tutti morti. Io non conosco una fila di finlandesi che è venuto a lavorare in Italia, no? Qui il problema vero è che non c'è questa reale mobilità dei fattori in Europa, per cui questa cosa oggi non funziona. Magari tra 50 anni potrà funzionare, ma oggi non funziona. Cioè hanno usato troppo? Hanno usato troppo, ma le faccio due esempi due. Banalmente per motivi linguistici, in teoria la lingua unica dell'Europa è l'inglese degli unici che sono fuori dall'euro, giusto per essere precisi. È paradossale, ma è così. E quindi c'è qualcosa che non quadra proprio nella costruzione generale. Tu, Borghi diceva c'è uno squilibrio, e certo c'è uno squilibrio, noi importiamo di più di quello che esportiamo, la Germania esporta di più di quello che importa, e va bene, normalmente lo aggiustavi lo squilibrio con la svalutazione. Noi non possiamo più farlo. No, abbiamo la stessa moneta, allora qual è la soluzione inventata dei fenomeni? Ti riduco il numero di monete che hai in saccoccia, alla fine l'effetto è lo stesso della svalutazione. Peccato che questa, che si chiama poi svalutazione reale, ha dei costi sociali altissimi. È vero che nel medio periodo porta gli stessi risultati, cioè nel medio periodo compreremo meno Mercedes e quindi, ho capito, però nel frattempo tu hai la disoccupazione al 12,5%. Le aziende che chiudono come le mosche, la pressione fiscale è il record mondiale e quindi il tema che ci poniamo noi come forza politica è guardate che qui la cosa non funziona. Poi se qualcuno mi dimostra che la cosa funziona, noi siamo i primi a cambiare idea. Peccato che non è così. Oggi ci stupiamo che il PIL è caduto di un punto e mezzo. Mi scusi, ma un bambino dell'asilo, chi minimamente, non esperti, chi minimamente si occupa di finanza pubblica sa che per ogni punto di PIL di tasse in più che metti ti cala a mezzo punto il PIL. In questo caso abbiamo dimostrato che cala ancora di più perché i moltiplicatori sono sbagliati. Siamo a 1,2, quindi il moltiplicatore non è più a 1, è a 1,2 e quindi si stupiscono che il PIL quest'anno cala a 1,5, ma è ovvio perché tu hai messo 45 miliardi di tasse in più e il PIL va giù così. Quello è un esempio concreto, certo. Cioè lei sta dicendo che questo metodo che stiamo usando non serve niente. Ci sono gli economisti, i politici dovrebbero leggere le cose e operare sulla base delle cose che trovano scritte da gente che fa quel mestiere. Io non mi definisco economista, sono uno che si occupa di questa materia qui. Purtroppo vediamo che di fronte all'evidenza si fa l'esatto opposto. E si prosegue sulla linea dell'austerità, giusto? E i risultati sono questi qui. Che poi in realtà, perché Garavaglia parlava del fiscal compact da una parte e dall'altra della moneta unica, c'è anche la via mediana che è quella di rinegoziare il fiscal compact e tenersi la moneta unica, no? Sì, però per andare a chiedere bisogna essere presentabili prima, noi non eravamo presentabili fino ad un anno e mezzo fa, tengo a ricordare, anzi eravamo del tutto impresentabili in Europa. Allora, dopodiché mi faccio a dire... Cioè le stai dicendo prima dell'arrivo di Monti? Certo. Allora, mi faccia dire prima una cosa però. Anche Grillo dice usciamo dall'euro, facciamo il referendum, facciamo i sondaggi, chiediamo, la gente non sa neanche bene di cosa si parla. Allora, la verità è che questa è una scorciatoia che ricadrebbe sulle generazioni future in maniera pesantissima. Non credo che i problemi di cui soffre il paese siano colpa dell'euro. Se noi abbiamo la disoccupazione al 12%, il terzo debito pubblico al mondo, il debito pubblico che è il 130% del PIL, uno Stato borbonico, una pubblica amministrazione efficiente e borbonica, questi sono i problemi. Si devono a decine di anni in cui non si è fatto niente. No, ma è così. Prendiamo atto. Questo cade, questo succede in un paese più deboli degli altri per queste ragioni, non per la valuta che ha adottato, in un momento di crisi mondiale e di crisi europea particolarmente forte. Pensare che si risolva tutto questo dicendo bene cambiamo valuta, ma dov'è il vantaggio? L'unico è quello che è stato evocato prima. Cioè della svalutazione. Una svalutazione competitiva, questo avvantaggia le aziende, ma vogliamo parlare del resto, vogliamo parlare della gente normale, di patrimoni svalutati del 50% dall'oggi al domani, di stipendi svalutati, di stipendi di svalutazione reale, di gente che non è più in grado di fare... Mi perdoni, su che base lei fa questa affermazione della svalutazione dei patrimoni del 50%? Ma come potete... Lei come... scusi, non voglio farli contintasca, il suo patrimonio come è? Di cos'è costituito? In immobili. In immobili, quindi le case che sono un bene reale, se io cambio la moneta, svalutano del 50%. Col mutuo magari, col mutuo, col mutuo, certo. Il mutuo lei sa ovviamente, spero, perché se no se non lo sa è inutile che andiamo avanti a chiacchierare, lei sa che i mutui vengono convertiti anche quelli nel momento in cui si cambia la moneta reale. Poi vediamo a che tassi vanno a passare. Ma lei sa che il suo mutuo è o tasso fisso o tasso variabile, Euribor, no? Se lei mi fa finire, mi fa una cortesia come l'ho fatta a finire io. Però dice delle cose assurde, ho capito, non è che poi dopo uno passa il tempo. Se vogliamo litigare, litighiamo subito. Per me le dice lei, allora, io le ho detto e vorrei finire, poi lei dice quello che vuol dire, ok? Allora, io credo che sia impensabile che noi possiamo piazzare, come abbiamo fatto oggi, dei BTP Italia al 2,30, 2,40, il momento che dovessimo passare alla lira. Io credo che i nostri titoli di Stato sarebbero piazzabili con grandissima difficoltà, e lo sapete anche voi, nessuno dall'estero le comprerebbe più. Finiamo il paria del mondo occidentale. Non siamo l'Uruguay o l'Argentina, paesi dove queste cose sono state fatte, dove sono state fatte in modo pesanti, realtà completamente diverse, lontane da noi, peraltro ricchissime di materie prime con altre prospettive. Io penso che semplicemente uscire dall'euro come atto unilaterale, oggi come oggi, sia una cosa sbagliata, sbagliata per il paese, sbagliata per la popolazione. Tutti ci perdo. Ok, questa è la sua risposta. Mi chiede Roberto su Twitter, quanto ci verrebbero a costare le materie prime che compriamo all'estero? Ecco, domanda pratica. Il doppio di oggi. La benzina. No, 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 calma, perché se no poi dopo allora mi giustifica l'interruzione. È una domanda. Se poi dopo, adesso poi ne parliamo della benzina, comunque se io sento una cosa che non sta nel cielo né in terra, devo poter... Che cosa non sta nel cielo né in terra? Per esempio, questa cosa, noi usciamo dall'euro, o torniamo, o chiamiamo in un'altra maniera, prendiamo la nostra valuta, i nostri risparmi, i nostri patrimoni si svalutano del 50%, vediamo se è vero. Allora... Se voi ritenete che è un 20-30%? Allora, diciamo che tutti gli economisti appena appena accreditati dicono che una svalutazione, come è sempre successo tutte le volte che si è parlato di svalutazioni, va sulle... si misura secondo il differenziale inflattivo. Differenziale inflattivo si ha contro altri paesi, vale a dire noi potremmo svalutare tanto contro la Germania, se si distrugge l'euro probabilmente rivaluteremmo contro la Spagna. Però facciamo l'ipotesi che non si distrugge l'euro, che facciamo l'ipotesi che usciamo solo noi. Usciamo solo noi, allora rispetto all'euro, un differenziale inflattivo sulla media è circa del 20%, quindi questa sarebbe la svalutazione. Perché loro dicono 50? Perché bisogna fare terrorismo, ma in ogni caso... Adesso puoi consentire anche il bimbo di me. Ma in ogni caso, se anche fosse 50%, che sarebbe una cosa fantastica, perché significa che è in giro per il mondo... Scusa Claudio, tu dici 20, loro dicono 50, facciamo 35. Ma se anche fosse 20... Ma lasciamo perdere, ma diciamo, prendo il 50, diciamo, olè, così i nostri... Alla fine dobbiamo... tutti faremo gli impiegati alla Ferrari, perché tutto il mondo vorrà comprare delle Ferrari che costano nulla, no? Tutto il mondo comprerà le Fiat... Diventeremo la Cina del mondo, esporteremo, quindi ci andrebbe benissimo. Ma vediamo i nostri risparmi, no? Per vedere che cosa succede. Se io ho banalmente, penso che Andrea qualcosa ne sa di queste cose, se io ho un risparmio normale con un fondo di investimento, cambia qualcosa il valore del mio fondo di investimento globale? No, probabilmente no, certo. Zero. Se io ho un'obbligazione americana o un qualsiasi altro titolo obbligazionario... Si rivaluta, perché se io per esempio ho un'obbligazione francese, per dire, no? Occhi per esso, il giorno dopo che noi usciamo dall'euro, questa si rivaluta. Quindi sale il mio patrimonio. Claudio, tu sai che... Se io ho una casa, no? A quel punto il valore della casa, che è un bene reale, è dato dal mercato. E il fatto che magari la mia casa, supponiamo che venga riparametrata come prezzo rispetto agli altri, tutte le case costano uguale. Quindi l'unico svantaggio che avrei è, se io fossi nell'ottica, in questo momento, di vendere la mia casa a Milano e comprarla a Bocum. Allora, nel qual caso... Però se la voglio ricomprarla a Milano, ok. Se la vado a ricomprarla a Milano, se il valore di tutte le case scende, ma chi se ne frega... Posso aggiungere che nel momento storico in cui siamo, le case sono già molto svalutate. Altro stanno già scendendo di loro. I mutui non cambiano, perché i mutui sono, e chiunque al mutuo lo sa, a mutuo o a tasso fisso o indicizzato all'Euribor. Attenzione! L'Euribor è la media dei tassi interbancari delle banche europee. Quindi se noi usciamo dall'euro, l'Euribor non cambia e non cambia neanche il tasso fisso. Per cui chi ha il mutuo è addirittura avvantaggiato, perché a quel punto lì succede che presumibilmente con un'economia in ripresa, gli sarà più facile ripagare una cifra che invece non cambia. Per cui smettiamola di dire tutte queste assurdità per spaventare la gente, che se noi usciamo dall'euro abbiamo l'obiettivo di fare terrorismo. Siccome me lo scrivono anche qua, è partito il terrorismo, ma non credo che nessuno abbia l'intenzione di fare il terrorismo. Allora è disinformazione, chiamiamolo non sappiamo. Questi sono fatti, non sono opinioni. Allora, è la stessa roba per quello che riguarda anche chiunque abbia un titolo di Stato. Il titolo di Stato italiano, che non è esattamente, abbiamo visto, l'unico strumento di risparmio della gente, perché una volta forse era così, adesso non è così. Se io la spesa la faccio in Italia, alla fine il fatto che io svaluti rispetto alla Germania danneggia l'orfano e la vedova che vogliono andare a comprare il crauto. Però tutto quello che arriva dalla Germania o dalla Francia costa di più. Ce ne faremo una ragione. In passato, in ogni caso, se visto che hanno ridotto i loro saggi di profitto pur di non perdere quote di mercato, attenzione. Quindi lui sta dicendo che la Germania, pur di vendere a noi, abbasserebbe i prezzi. Tant'è vero che nel caso della sviluppazione del 92 non c'è stato alcune inflazioni. Ok, però era diverso, non c'era la moneta unica. Posso chiedere una cosa che non ho capito? Sì, allora dovete replicare. No, solo una domanda, non una replica. Questa autarchia. No, vorrei capire, ma l'uscita la preconizzate come? Perché vorrei capire, con un default, un piccolo default, un default totale? Nassun default. Siamo già in defosso. No, perché poi non è che siamo da soli in Europa. Se la dovessi fare io, se la dovessi fare io... Poi sentiamo tutti, Claudio, se non lo faccio. Scusate, se dovessi fare io la cosa, faccio una cosa molto semplice. Chiudo le banche all'ultimo dell'anno, a ferragosto, per una settimana. A quel punto, poi dopo, con una semplice legge che è stata identica, posso prendere... Un decreto legge, sì. Un decreto, posso prendere paro paro quello che è stato utilizzato per passare dalla lira all'euro e cambio i nomi. Tutti i contratti vengono ridenominati nella nuova moneta, esattamente come è successo cambiando dalla lira all'euro. Non configura incredibilmente, secondo la maggior parte delle opinioni degli studi legali internazionali, nemmeno come un default. Perché è l'ex monete. Quindi significa che se io ho un'obbligazione che dice che deve essere pagata in valuta corrente, questa... io cambio la valuta corrente e quella mi rimane. Questa sarebbe la modalità. Va bene, se voglio sentire adesso Bimbolliano che è Caravaglia, ma prima... La pubblicità qua mi scrivono, basta col terrorismo e il luogo comunismo, in termini del professor Bagnai. Se non è terrorismo è ignoranza. Poi ci dice, il debito pubblico era sostenibile prima dell'euro e basta con la favola dell'Italia impresentabile prima di Monti. Sì, vabbè, eccetera, eccetera, pubblicità, poi torniamo. Diavolina Accendi Fuoco è un prodotto di facile utilizzo, intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione di fuochi in brevissimo tempo. Diavolina Accendi Fuoco è il prodotto per il fuoco più venduto in Italia, ideale per tutti coloro che posseggono camini o stufe e desiderano utilizzarli in modo sicuro ed efficiente. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina Accendi Fuoco Doppia Forza, che con l'aggiunta di carbone vegetale garantisce una combustione più intensa e duratura. Sul nuovo numero di famiglia cristiana, per sette anni Giorgio Napolitano è stato il punto di riferimento degli italiani. Papa Francesco, vescovo e popolo insieme in cammino. Adozione, così ho ritrovato le mie radici. Vera Babun, a Betlemme governa Vera. Modà, nell'oratorio dove è iniziato tutto. Luca Zingaretti, Montalbano sono, calciatore fui. Inserto speciale, cani, gatti and co. La nuova Bibbia per la famiglia. Questa settimana, soli 7,90 euro in più. Il sesto volume, Proverbi, Coelet, Cantico dei Cantici, Sapienza, Siracide. Visita il sito portale Pagine Blu Annunci Gratuiti. Sito dedicato interamente agli annunci al mondo del lavoro per gli artigiani, le aziende, i commercianti, liberi professionisti e gli enti pubblici. Nel sito Pagine Blu Annunci Gratuiti puoi scrivere annunci di lavoro, trovare la dolce metà, vendere e acquistare, partecipare al concorso fotografico. Cosa aspetti? Vai subito su Pagine Blu e Annunci Gratuiti. Troverai tanti vantaggi per far decollare la tua attività. Visita Pagine Blu e Annunci Gratuiti.com Se stai cercando un'auto, scegli Volvo da Svezia Car. Guarda che prezzi! XC70, chilometri zero, vari allestimenti e colori, da 38.200 euro. XC90, chilometri zero, vari allestimenti e colori, da 40.100 euro. XC60, chilometri zero, vari allestimenti e colori, da 26.990 euro. Tutti i prezzi sono coniva esposta, ma affrettati perché sono disponibili. Solo gli ultimi esemplari in pronta consegna. Svezia Car, la tua Volvo a Milano, in via Kulischoff 6 e sul web. Svezia Car.it La Chiesa nella Città, per sapere tutto quello che succede nella nostra diocesi e seguire gli appuntamenti ecclesiali, ma non solo con il Cardinale Angelo Scola. Giovedì alle ore 18.30 sul canale 14, sabato alle ore 17 sul canale 6.64 Telenova News, e sempre su Telenova News, domenica alle ore 13 e alle ore 20.30. La Chiesa nella Città, la vostra finestra aperta sulla diocesi di Milano. Allora, rieccoci, intanto vi faccio vedere il sondaggio, perché, bimbo alieno, sarebbe giusto uscire dall'euro. 90% dice sì, no, il 9%, non ho strumenti per decidere, che la voce che ho voluto mettere io, solo 1%. Vabbè, sono quelli che ammettono che non... Io penso che voterei la terza. Vabbè, ma questo per forza, ha parlato solo Claudio fino adesso. Allora, no, replichiamo. Lui ha spiegato, perché quello che poi ci chiedono anche su Twitter sono le importazioni e le esportazioni, perché il modello che viene fuori sembra quasi un modello di autarchia, anche se lui dice no, perché gli altri paesi alla fine abbasserebbero i costi pur di esportare in Italia. Il caso che ha fatto Claudio è un caso veramente molto di scuola, perché lui dice che non sono opinioni, sono fatti. In realtà sono opinioni. Nel momento in cui l'Italia esce dall'euro non è un evento one-off che poi tutto il resto rimane inalterato, è, come dire, un quadro immutato. Semplicemente l'Italia è uscita dall'euro e non succede niente. L'euroribor non si muove, i mercati finanziari non si muovono e quindi il valore dei fondi di investimento non si muove. Insomma, voglio dire, non è che voglio essere tacciato di terrorismo come sta succedendo su Twitter, però credo che per onestà intellettuale sarebbe corretto dire che se l'Italia esce dall'euro con oltretutto un intervento unilaterale senza consultazioni, mi sembra di capire. Chiudo le banche il venerdì, tengo chiuso tutta una settimana. Il professor Bagnai dice addirittura di fare un decreto legge nascosto di notte in modo che nessuno ne sappia niente. E quindi, come dire, chi lo decide? Due persone. Il decreto legge è fatto da decine del governo. Sì, d'accordo, però voglio dire, mi sembra molto lontano da una cosa democratica. Cioè, instauro una moneta d'imperio, dopodiché dal giorno dopo chiedo ai mercati di avere fiducia in questa moneta che non ha nessun supporto democratico perché l'ho imposta dalla sera alla mattina e su questa nuova moneta chiedo di finanziare il debito perché da oggi lo emetterò in questa moneta che emetto, cari signori, perché ho bisogno di svalutare e non voglio correggere le mie strutture, quindi ogni tot anni svaluterò. Secondo voi che tassi vorrà un investitore estero per comprare titoli in una moneta che periodicamente verrà svalutata. Che non è più stabile a quel punto, certo. Sì, insomma, che come strategia ha che ogni, non lo so, dieci anni svaluto del 20%. Bene, vorrò un rendimento che mi copra il rischio di tenermi un meno 20%. Nota metodologica, non interrompo perché mi sono preso una cosa, no? Intanto tengo... Cioè, vorrei che i telespettatori non pensassero che io col fatto che non replico sono d'accordo tutto. Mi taccio perché ho parlato tantissimo prima. No, no, ma poi torno da Borghi. Andrea Orto chiede di chiedere a voi due, chiedi ai pro euro, se non è da polli, consentire ai tedeschi di non rivalutare in espansione contro di noi. Esatto. Consentire i tedeschi... Non ho capito io. Eh, sì, sto a decifrare. Cioè, di uscire loro dall'euro. È ovvio, la soluzione più logica oggi, se volessimo parlare dal punto di vista economico, è evidente che a fronte di questa stortura, la soluzione più logica è l'uscita della Germania dall'euro. Quindi come diceva Soros, non la nostra, ma la prese. Dal nostro punto di vista, non dal loro. Ma è pacifico, è da loro per forza. Non dal loro. Per forza che da loro no. Anche se c'è un partito in Germania, chi vuole uscire, eh? Ma c'ha ragione anche quelli. Allora, attenzione, una roba alla vota. Poi prendo le telefonate. Su pro e contro euro parla Borghi, che è più bravo di me. Io posso dire due robine di finanza pubblica, visto che me ne sono occupato minimamente. Ora, l'effetto di quello che abbiamo fatto noi con il governo Monti ha comportato questa simpatica situazione. Da novembre 2011 ad oggi, il rapporto debito-pil, che è quello su cui in teoria noi siamo valutati, dicono tutti che il problema è quello lì, bene, è aumentato di 10 punti, siamo a 130,5. In realtà è di 14 punti e mezzo, perché al 130 dobbiamo aggiungere 4 punti di PIL, che sono i 50 miliardi di euro che noi abbiamo dato alle banche europee di mezzo Europa. 50, 4 Montepaschi, roba nostra. E tutto il resto però è fuori. A parte che era la banca del PD, ci può stare perché comunque è banca nostra. Perché ci sono gli investitori. Va bene. Non solo. Perché non li abbiamo neanche tutti. Gli altri li abbiamo dati alle banche di mezzo Europa. Tu gli avevi dato i tre monti, sono d'accordo. Ora, l'effetto di questa cosa qua, l'effetto di questa cosa qua qual è? Noi abbiamo fatto uno sforzo fiscale enorme, per fare favore a chi? Alle banche francesi e tedesche che erano esposte verso paesi periferici di zona euro, ma soprattutto Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda. E quindi è logico che i tedeschi vogliono che vada avanti così. Dove trovi uno stato così pollo che continua a spennare i cittadini e finanzia le loro banche. È perfetto? Ha ragione i tedeschi. Noi siamo il loro bacino. Ma è chiaro. Se a questo aggiungi il fatto che noi siamo anche il paese d'Europa più ricco, perché la proprietà, noi abbiamo la maggiore percentuale di case proprietari prima casa. Abbiamo i conti correnti. E' logico che qui si può spennare ancora. Quindi più riescono a tenerci in stand-by in questa situazione col cappio al collo, il cappio al collo lo disse il buon Guido Carli quando si decise questa roba di entrare nell'euro. Disse, attenzione, questa cosa l'ha raccontata Paolo Savona quando l'abbiamo chiamato al Senato da noi per fare due chiacchiere su questa cosa, euro sì, euro no. Poi dopo se volete vi racconto anche di Paolo Savona. Però la citazione di Guido Carli è bella. Disse, attenzione, stiamo facendo una boiata molto grossa a entrare nell'euro a queste condizioni. Ci stiamo mettendo il cappio al collo. Attenzione, teniamo almeno la mano sul nodo scorsoio e il nodo scorsoio è la politica fiscale. Col fiscal compact noi abbiamo tolto la mano dal nodo scorsoio e quindi ci stanno strozzando completamente. E invece fare un'integrazione fiscale non sarebbe utile? Cioè fare una politica fiscale comune a tutta l'Europa? Assolutamente sì, ma questi a medio termine. Il problema è che noi abbiamo prima fatto il tetto senza fare fondamenta e la casa non sta in piedi. Qui infatti stanno dicendo non è stato democratico anche l'ingresso nell'euro, ci stanno scrivendo. Ovviamente. Voi invece ritenete di sì, presumo. Per l'Europa abbiamo votato. La gente non aveva le nozioni, l'ABC, per capire se la cosa fatta in cui termine era giusto o sbagliata. A partire dal tasso di cambio andando in giù. Ci stanno dicendo che è stato democratico l'ingresso nell'euro. L'euro sta uccidendo la democrazia, ci ha tolto la sovranità dell'articolo 1 della Costituzione. Sentiamo, prendiamo due telefonate. Abbiamo il gong. 30 secondi, dopo 30 secondi scomparla la telefonata. Quindi vi prego di essere rapidissimi. Ce n'è una. Pronto? Con 30 secondi non si riesce a parlare. Ci provi. Mi scusi signora, ma con 30 secondi? Se li spende per dire questo. Che cosa si riesce a dire in 30 secondi? Mi scusi, perché io ho altre cose importanti. Guardi, adesso parte il cantao. Prego la regia di farlo partare. Se tutti sprotestano, non vado più avanti. Il potere di acquisto ha perso il 50% dell'euro. Bossi l'aveva già detto nel 2001 che bisognava mettere una tassa a importatori cinesi e asiatici del 20% per salvare tutte le attività manufattiere. e voi me ne siete applegati. Perso! Grazie. Purtroppo i 30 secondi sono quelli, quindi è inutile che protestate perché la regola è quella lì. Quindi il potere d'acquisto è stato... Si è perso il potere d'acquisto, diceva, del 50%. Ce n'è un'altra? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Come si chiama? Pronto? Pronto, in linea. Sì, sono Gaffurio Alessandro di Bergamo. Prego, ci dita. Devo portare un semplice esempio che interpreta la situazione. L'Italia è come una persona che ha bisogno periodicamente di fare la dialisi perché è malata. Si è voluta mettere con delle persone che non hanno bisogno di fare la dialisi perché sono sane. Il risultato è la morte. È quello che ci sta succedendo. Cioè noi abbiamo... L'Italia è malata. D'accordo con lo che ha letto il professor Bobbi. Va bene, bravissimo che è stato veloce. Grazie. Io chiedo alla regia di abbassare il volume del tic-tac perché se no non sentiamo niente. Non so, chi vuole rispondere? Il potere d'acquisto è stato perso il 50% e i pro-euro vogliono rispondere. L'Italia non era così malata quando questo è cominciato. L'Italia è una malattia che non dipende dall'euro, torno a ripetere. L'Italia è una malattia grave, molto grave, che dipende però da altre cause ed è quello che va risolto indipendentemente dalla valuta. Non credo che a risolverla in un contesto in cui noi usciamo con questa operazione, questo golpe unilaterale durante il weekend con i bancomati inchiavardati in cui noi ci presentiamo il lunedì mattina e che abbiamo deciso che usciamo dall'euro, questo ci metta in buona luce in una situazione favorevole nel contesto internazionale in cui viviamo. Non è che noi siamo un'isola slegata, anche dire i lacci, i laccioli, ma facciamo parte dell'Unione Europea, facciamo parte dall'inizio, o ne facciamo parte o usciamo. Non è che possiamo fare quello che comoda a noi, un conto è quello che penso io, andare a rinegoziare è quello che ci interessa rinegoziare. Ad esempio anche il Fiscal Compact. Ad esempio alcune cose con il Fiscal Compact. Vorrei però dire all'amico Garavaglia che si ricordo bene, chi propose, si offrì, ormai disperato, in luglio e agosto del 2012, di addirittura accelerare il pareggio di bilancio al 2013 e non al 2014, fu il governo della Lega. Qui posso rispondere? Mi pare di ricordare questo. Adesso tutto ad un botto, qui non ci sono più padri, madri di niente, io capisco che oggi avete tutti un sacco di problemi e vi attaccate a questa cosa. No, no, ma io la butto in politica e le rispondo in maniera molto semplice. Prego, posso? Sì, sì, Garavaglia, rispondo. No, perché questa è una cosa interessante. Noi abbiamo fatto una manovra pesante nel giugno 2011, che poteva essere sufficiente per appianare un po' la questione. Si scatenò una campagna stampa fortissima, perché lì l'obiettivo era della sinistra sostanzialmente di rovesciare il governo con la scusa di andare contro dicendo che era insufficiente la manovra, che culminò nell'ultimo weekend di luglio con un articolo su Sole 24 Ore di Luigi Zingales. Me lo ricordo ancora adesso, perché telefonai al mio amico Giancarlo Giorgetti dicendogli guarda che qui salta al banco. Era partita proprio la campagna stampa che diceva non basta, non basta, bisogna anticipare, bisogna anticipare, bisogna anticipare di un anno. I motivi dietro erano di carattere politici, c'era oggettivamente una debolezza del premio al momento per gli scandali, per tutto quello che era successo. Però venne usata questa clava come grimaldello per far saltare il banco, non rendendosi conto del danno che si è fatto, perché oggettivamente già rispettare il pareggio di bilancio fa ridere, tant'è che fa ridere il risultato che ha avuto il governo Monti, il buco entrate e uscite è di 41-45 miliardi, vedremo alla fine dell'anno, arriviamo ai soliti 45-47, non cambia niente, insomma, nonostante tutte le mazzate che abbiamo dato ai cittadini, quindi tutto perfettamente inutile. Secondo lei è tutto come prima? No, è peggiorato, In cambio ci sono quasi tre punti percentuali di spread di meno, forse. Lo spread è di meno. La gente va al banco, ma ti tira giù lo spread, di che parliamo? Lo spread è una cosa che non ha nessun impatto reale sulla vita economica dei cittadini, in questo preciso istante. Con i conti pubblici c'è uno studio preciso di De Graue che c'è di voi. Esatto, qua mi chiedono anche dello spread. Se posso spiego questa mia approvazione politica. No, no, io volevo che Garavaglia, esatto, finiamo la cosa politica, poi parliamo dello spread. Se no si va su luoghi comuni e usciamo. Garavaglia, ma politicamente ricordo male o non avevate più la maggioranza voi in Parlamento? Io non vedo complotti, vedo dei deputati che sono andati via, punto, che non vi hanno più appoggiato. Se non sbaglio avete perso la maggioranza, ma non per un complotto. Fini è con voi, no? Perché i vostri... Quello che è andato via, Fini, è con voi, no? Infatti è andato via. Beh, ma la maggioranza cade per quei... Gli otto traditori che erano nel fogliettino e non c'era Fini, no? Allora, voi vi divertite su questo... No, però non mettiamola in politica, perché stasera parliamo d'altro. Ma questa cosa dei complotti togliamola di mezzo perché è ridicola. Stavo tentando di fare un ragionamento. Poi è vero, voi andatevi a prendere la stampa di quel mese di luglio e vedrete come è andata a finire la faccenda. Perché la manovra di giugno era già più che sufficiente per mettere a posto tutto quanto. Invece si decise politicamente di partire a sprombattuto, dire che non era abbastanza, contro gli interessi del Paese, imponendo quello che è stato imposto, il risultato disastro, vabbè, ma questa è la storia. Adesso andiamo sull'oggi, no? Si stava dicendo della sostenibilità delle manovre che abbiamo fatto. Perché si è detto, la soluzione è facciamo tutte queste belle manovre e risolviamo il problema, no? Si parlava di democrazia. Le faccio un esempio uno, poi lascio la parola agli altri, se no parlo solo io. Poi ci sono un sacco di temi da approfondire dallo spread. Sì, sì, perché mi chiedono dello spread adesso, infatti. Vabbè, lo spread, vabbè, poi dopo lo spiega meglio Borghi di me, se vuole, che è lì che sta zitto e non gli rubo... Sì, poi mi chiedono anche di Cipro, se sono saputo che non gli rubo... Non gli rubo un tema che so che lo diverte. Cipro è un'altra storia. Allora, democrazia. Il 12 di febbraio dell'anno scorso, il ministro, il premier Monti, va in Europa e senza dire niente a nessuno, decide questa cosa qui, di anticipare una rata, no, del fiscal compact nel 2012. La gente dice, ma di che cosa stai parlando? Noi partecipiamo al fondo salva stati per 14 miliardi e 7, il signor professor Mario Monti va là e senza avvisare nessuno in Parlamento, decide per fare il fenomeno, per farsi bello, no, per essere più credibile e dei credibili, decide di dire, guarda, sai cos'è la novità? Una rata del 2013 l'anticipo al 2012, 3 miliardi e 2, ok? Quindi noi abbiamo sborsato 3 miliardi e 2 nel 2012 in anticipo. Per intenderci, l'ICI sulla prima casa è 3,8. Tradotto, noi potevamo rinunciare a mettere l'ICI sulla prima casa se semplicemente Monti avesse mantenuto gli impegni come erano scritti precedentemente. E perché l'ha fatto Monti, secondo lei? Per fare il fenomeno, per aggiungere credibilità. Per aggiungere credibilità. Adesso sentiamo voi se volete rispondere anche a questo. E questa è storia. Questo è uno. Poi dobbiamo parlare di Cipro perché quando voi contestate... Credibilità che ci farà uscire dalla procedura di infrazione. Scusi, va bene. Adesso voi rispondete. Poi qua mi dicono che voi criticate tanto, mi dicono i pro euro, l'ipotesi di Borghi di fare la cosa di notte, la settimana con le banche chiuse. Ma Cipro perché? Cos'hanno fatto? A Cipro hanno fatto se non peggio. Questa è la domanda che fanno a voi. Se vogliamo augurarci uno scenario Cipro... Dopo la pubblicità rispondiamo a tutto. Cipro è un altro film. Se Motors, concessionario Nissan Esclusia per Monza e Brianza da 20 anni. Mi propone Nissan Juke a partire da 13.950 euro. Disponibile anche nelle versioni GPL con bonus fino a 3.000 euro. Venite, Se Motors Monza. Bertoni, uno stile di vita all'aria aperta. Guardate per i vostri spostamenti lo zaino valigia trolley 3 in 1. Zaino grande, zaino piccolo, la valigia super capiente e il trolley prezzi da 79 euro e poi tanti marchi. La Fuma, Deuter, Ispac, North Face, Bertoni, Viale Fulvio Testi 140, Cinisello Valsa. Autovilla Ford Partner per Milano Nord vi aspetta nello showroom di Viale Gramsci e nella sede storica di Viale Casiraghi a Sesto San Giovanni. Due grandi esposizioni per ammirare tutta la gamma delle autovetture e dei veicoli commerciali Ford ma da Autovilla troverai anche un vasto parco di autovetture usate ed aziendali di tutte le migliori marche del mercato tutte garantite e ai migliori prezzi. Da sempre Ford Autovilla è esperienza e serietà. Autovilla in Viale Casiraghi 504 in Viale Gramsci 757 a Sesto San Giovanni. Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza. Con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico, funzionale e attento al design. Affidati a noi progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa offrendoti il miglior servizio che avevi in mano con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero. Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago in via in Audi 34 a Pessano con il miglior servizio che avevi in via in Audi 34 attento ai colpi di testa per la tua pubblicità vai sul sicuro affidati a Bobbiese pubblicità e comunicazione telefono 02 34 50 800 I tesori della terra le antiche ricette tramandate di generazione in generazione panorami mozzafiato nel regno della natura le quattro stagioni colte nel loro splendore da un esperto quale Stefano Cantiero Vie Verdi sabato alle ore 23 su Telenova Rieccoci, rieccoci siamo in onda di nuovo allora un sacco di domande allora risposta non so se vuole rispondere Bimbo Alieno o Bastianini a quello che diceva Garavaglia che diceva Monti ha per farsi bello anticipato 3 miliardi che dovevamo pagare nel 2013 ci provo io come giustamente ha detto lui è stata un'operazione per acquisire credibilità questa credibilità ha comportato a minor costo del debito ma dove? beh insomma mi pare di poter dire che il costo del debito italiano no no quello era un atto dovuto era un protocollo già scritto lui ha semplicemente anticipato una rata perfetto senza nessun beneficio e senza l'informazione del Parlamento io riprendo le parole sue un'operazione fatta allo scopo di avere il massimo della credibilità sua il risultato di questa credibilità è stato un abbassamento ulteriore degli spread e quindi poi del costo del debito per l'Italia e di conseguenza il risparmio è ottenuto tutto sommato visto che era una rata che avremmo comunque dovuto pagare secondo ci abbiamo guadagnato in spread no allora io sto alla sua operazione riuscita non è vero Caravaglia quale dicono anticipare 3 miliardi non diciamo stupidate no 3 miliardi 3 miliardi 8 lui prende 14,7 lo divide 5 e quella è la rata anticipata non è una stupidata loro hanno spiegato secondo loro perché l'hanno fatto no e non ha apportato il risultato perché se uno va a vedere la spesa per interessi è aumentata quindi non ho capito dove dove abbiamo risparmiato 3 miliardi e 2 in spread loro dicono no è sugli spread ma io parlo di interessi debito pubblico no interessi debito pubblico sono aumentati quindi non è vero che abbiamo risparmiato in interesse borghi lo spread manca la controprova non sappiamo quanto avremmo pagato sullo spread vorrei starci molto poco con un argomento che mi sembra abbastanza decisivo vale a dire se lo spread la discesa dello spread fosse dovuta alla credibilità di Monti e non come invece io sostengo al bazzucca di gradi e come tutti quelli che hanno un minimo di onestà intellettuale riconoscono è stata dovuta all'intervento di Draghi che è stato un intervento per tutta Europa non per l'Italia quando Draghi ha dato i soldi quando Draghi ha detto we will do whatever it takes tanto per riassumere Draghi ha detto più volte la risposta è Draghi non avrebbe potuto fare questo senza Monti ok la risposta e la contro risposta è se Draghi non avesse detto quella cosa lì sarebbe saltata l'Italia sarebbe saltata la Spagna e lui avrebbe perso il suo lavoro e non credo che tutti bruciano dalla voglia di rimanere nella storia per essere il banchiere centrale che ha fatto saltare per aria poi però su questa cosa un'area euro un'area euro per non aver fatto il suo lavoro comunque detto questo se effettivamente la credibilità dei mercati fosse stata di Monti come più o meno una certa stampa ci dice nel momento stesso in cui noi il giorno dopo le urne diciamo così quando Monti vaporizzato dalla faccia della terra perché non più perché ha avuto solo il 10% è una cosa e diciamo vittoria di Grillo e Berlusconi quindi due clown no? beh il primo partito è stato il PD però sì primo partito è stato il PD di 0 virgola con una situazione che adesso è sotto gli occhi di tutti avremmo dovuto avere lo spread a 5 mila no? invece così non è successo quindi sgombriamo il terreno invece mi interessa di più andare a scavare una colpa invece del governo precedente già che abbiamo qui un rapido perché se no sembra che invece io voglio andare a pescare una colpa gravissima secondo me del governo precedente che ha firmato il fiscal compact innanzitutto qui non posso dirlo a lui perché lui non l'ha firmato no lui no però il PDL sì se ci fosse stato qua un rappresentante del PDL gli avrei detto che diamine è fatto perché quando il PDL si scaglia contro Monti per il fiscal compact un po' di coerenza vorrei dire che in ogni caso anche quella manovra di luglio è stata una manovra disgraziata perché a un certo punto ha ingenerato ha accelerato di molto la caduta poi dopo del PIL perché la gente ha iniziato quella che io chiamo una gelata fiscale vale a dire colpiti nel patrimonio perché non dimentichiamo che le tasse sui risparmi l'IVA e così via sono state decise da Tremonti colpiti nel patrimonio la gente ha smesso di spendere ma non è stato neanche quello il problema è e arriviamo alla vera causa dello spread lo spread quando si è originato si è originato in un momento ben preciso e non c'entrava niente la cricca non c'entrava niente la corruzione non c'entrava niente Berlusconi si è originato nel momento stesso in cui si è deciso e l'ha annunciato Merkel e Sarkozy di far fallire la Grecia vale a dire che i possessori di titoli di Stato greci avrebbero dovuto burden share vale a dire partecipare alla sventura della loro Stato tranquillità io risparmiatore avevo in mano i titoli di Stato greci e mi hanno detto che invece di valere 100 valevano 20 30 30 valevano 30 a quel punto è stato mettere fuori un cartello dicendo attenzione voi fino a ieri avete vissuto nella credenza che il titolo di Stato era un titolo risk free vale a dire privo di rischio adesso non è più così i titoli sono rischiosi poi dopo c'è tutta una bella scaletta dove in cima abbiamo quelli che tanto sappiamo che possono il pallone è suo quindi la Germania e possono andarcene in quel momento e poi il sotto ha cominciato prima caduta la Germania poi caduta l'Irlanda poi caduta la Portogallo poi caduta la Spagna e poi c'eravamo noi in classifica avessimo fatto qualsiasi cosa magari diciamo eravamo bravissimi ci sarebbe stata la Francia la Francia sotto noi 5.000 temi aperti credo in ogni caso questo è stato il problema la causa dello spread è questo e non la mancata credibilità di Berlusconi la mia domanda che farei chi cavolo c'era nell'Eurogruppo ad avvallare questa decisione qual è la Grecia perché se noi la Grecia gli si diceva Grecia fuori e ti diamo 50 miliardi di euro per rimetterti assieme era finito il costo invece quanto siamo adesso 400 miliardi 500 non so quanti abbiamo dato più disastro questa è la spiegazione del professor Borghi sullo spread non è colpa di Berlusconi Berlusconi ma è colpa della manovra sulla Grecia chi c'era del governo italiano che non si è sdraiato per terra rispondiamo perché questo serve per far capire che cos'è lo spread ma soprattutto guardiamo in funzione del futuro non del passato dunque gli spread erano sostanzialmente a zero fino al 2006 c'era un allineamento il mercato riconosceva rendimenti identici praticamente a tutti i titoli di stato dell'area euro perché in quanto i titoli di stato dell'area euro erano considerati sostanzialmente nel 2006 nel 2011 no no fino al 2006 la Grecia è arrivata ad avere uno spread di 6 punti sulla Germania quindi praticamente possiamo dire che gli spread erano a zero a luglio 2011 le variazioni erano cioè mi stai dicendo che la Grecia è saltata con lo spread a 100 punti quando è saltata la Grecia quanto era lo spread era oltre i 1500 punti certo no perché tu dici che il fallimento della Grecia è stato l'origine dello spread no dello spread in Italia non è certo salito nel 2006 ma lo spread non è una questione italiana la differenza tra l'Italia e l'armare certo però la divaricazione degli spread e l'improvvisa come dire allargamento il progressivo allargamento degli spread è partito non dal fallimento della Grecia perché altrimenti come dire stiamo confondendo causa e effetto la Grecia è saltata lei dice il contrario la Grecia è saltata perché i suoi spread erano arrivati a livelli tutti gli altri fuori Grecia c'è l'Italia così questo tipo lo spread è partito nel 2011 prima non se ne parlava dello spread non se ne parlava ma non era più già ai livelli del 2006 i mercati non hanno cominciato a scontare se fossero stati 50-100 punti uno poteva anche dire ma chi se ne frega c'erano stati dei momenti nel 2000 nel massimo della crisi della Lehman quindi diciamo nel 2008 nel 2009 i nostri rendimenti lì forse possiamo lì forse possiamo identificare un vero punto di rottura vediamo troppo sul tecnico voi date due chiavi di lettura diverse quindi alla nascita dello spread quindi lei conferma secondo lei lo spread italiano la differenza tra i BTP italiani e i bundo tedeschi è schizzata gli spread in Europa erano un fascio unico di cavi si sono cominciati ad allargare e a separare uno dall'altro non certo dal 2011 non certo dal 2011 mi dispiace non avere il grafico glielo farei vedere prendo due telefonate con i 30 secondi è sul mio paper lo puoi trovare pronto? 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 c'è una telefonata? pronto? sì chi c'è in linea? buonasera buonasera il suo nome vorrei mi chiamo Nicola e mi chiamo Dante in provincia di Libera e Sangetrani vorrei far notare al signor politico di Italia Futura che si è dimenticato un aspetto importante sia dell'euro che dei vincoli che sono stati introdotti attraverso la ratifica dei trattati europei e cioè che sono state scelte fatte diciamo così da rappresentanti pro tempore del popolo che secondo me non hanno alcuna legistimazione reale per fare una scelta di quel tipo perché sia l'articolo 1 che l'articolo 11 della politica sono che la sovranità fatta fine al popolo e che non si può scegliere la sovranità temo di avere capito grazie lei ha capito io non ho capito nulla se ho ben capito dice che Monti non aveva nessuna legittimazione perché era un rappresentante però tempore non eletto dal popolo è questo che ha detto in generale più o meno tutte le scelte insomma non si è fatto il referendum vabbè che dove ha fatto il referendum le ha rifatte finché non andava dice che le scelte di Monti in teoria non erano legittimate ah vabbè però Monti ha ratificato il fiscal compact vorrei spiegarmi che Monti è stato indicato il capo dello Stato ha costituito un governo che ha avuto la più ampia maggioranza che il Parlamento italiano ricordi credo che altro non abbiamo bisogno di dire una chiara la risposta un'altra telefonata pronto? pronto? buonasera come si chiama? ce l'ho io? si e lei come si chiama? mi chiamo Maria Grazia Maria Grazia ci dica sì la mia domanda era in particolare agli economisti pro euro sì ed era questa che a me sostanzialmente pare che soltanto l'idea che la salute economica di intere popolazioni di persone come noi gli italiani gli spagnoli gli greci possa dipendere da concetti come lo spread quindi da differenziare negli interessi di interessi sul debito pubblico appunto che sono peraltro stabiliti da enti privati perché le banche se centrali se non sono privati a me sembra che già solo questo sia un'anomalia enorme e inaccettabile grazie chiarito il concetto dobbiamo capire però di che cosa parliamo perché se parlando di spread facciamo terrorismo chi cioè dall'altra parte ho sentito dire che lo spread non influenza la vita quotidiana dei cittadini infatti noi guardiamo il tasso di interesse a cui si finanzia lo Stato non lo spread è una cosa diversa però la signora diceva non è possibile valutare lo stato di salute di un paese in base allo spread che è una cosa finanziaria non è possibile valutare lo stato di salute di una persona dalla temperatura che esprime il termometro in base allo spread no in base agli interessi che devi pagare sul debito pubblico al di là della valuta non è che lo spread è un numero così scusa quello che vuol dire lui è che se si azzera l'interesse della Germania per motivi suoi e il nostro rimane uguale lo spread aumenta ma il nostro debito pubblico il costo del nostro debito non aumenta però abbiamo un problema di distorsioni che si accentuano e che quindi rendono ancora più difficile la nostra situazione diventa più complicato il fatto che ci finanziamo al 4 come prima quindi non è cambiato un bel niente vabbè certo sale la Germania e saliamo anche noi certo però sondaggio intanto avete guadagnato qualche punto sarebbe giusto uscire dall'euro sì 88% no 9% 3% dicendo no agli strumenti c'è ancora un po' di pubblicità a tra poco Diavolina Accendi Fuoco è un prodotto di facile utilizzo intuitivo e pratico risolve qualsiasi problema di accensione di fuochi in brevissimo tempo Diavolina Accendi Fuoco è il prodotto per il fuoco più venduto in Italia ideale per tutti coloro che posseggono camini o stufe e desiderano utilizzarli in modo sicuro ed efficiente Diavolina tutta la magia del fuoco prova anche Diavolina Accendi Fuoco doppia forza che con l'aggiunta di carbone vegetale garantisce una combustione più intensa e duratura visita il sito portale Pagine Blu Annunci Gratuiti sito dedicato interamente agli annunci al mondo del lavoro per gli artigiani le aziende i commercianti liberi professionisti e gli enti pubblici nel sito Pagine Blu Annunci Gratuiti puoi scrivere annunci di lavoro trovare la dolce metà vendere e acquistare partecipare al concorso fotografico cosa aspetti? vai subito su Pagine Blu Annunci Gratuiti troverai tanti vantaggi per far decollare la tua attività visita Pagine Blu Annunci Gratuiti punto com con il giornalino la settimana è formato ragazzi su ogni numero un mondo di fumetti giochi curiosità giornalismo per ragazzi rubriche sulla natura intervisti ad attori e cantanti e i grandi dello sport tanti amici ti aspettano a cui raccontare esperienze e inviare domande con lettere email sms ogni settimana il giornalino ti regala un altro giornale conoscere insieme per scoprire un sacco di cose nuove non perdere il giornalino chiedilo in edicola o nella tua parrocchia da Jaguar Monza potrete realizzare il vostro sogno di auto sportiva venite a trovarci e scoprite le nostre coupé o le nostre cabrio a partire da 14.900 euro visita il nostro sito jaguarmonza.it il tuo bagno dei sogni è da Dimensione Bagno dove trovi un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo Dimensione Bagno la scelta giusta per il tuo bagno di qualità sei pensionato e vuoi difendere il potere d'acquisto della tua pensione vuoi batterti con i giovani e le nuove generazioni per costruire una società migliore e più giusta sei pensionato e desideri servizi di qualità per te e la tua famiglia vuoi tutelare la non autosufficienza i pensionati della CISL sono la tua risposta costruiscila insieme a noi iscriviti e sostieni la FNP CISL un sindacato promotore di solidarietà nono congresso della Lombardia Sirmione 16, 17, 18 aprile Il fatto del giorno politica, cronaca, attualità per sapere, per capire per discutere intervenendo in diretta Il fatto del giorno con le notizie del TGN in anteprima e le interviste più importanti delle ultime ore Il fatto del giorno dal lunedì al venerdì alle 18 su Telenova la tua famiglia la tua realtà la tua televisione Rieccoci c'è un aggiornamento di politica pare che ci sia un'intesa al fotofinish tra PD e PDL tra Amato D'Alema Garavaglia e Mr. X questo Mr. X è quello giusto alla fine D'Alema e Garavaglia? Amato D'Alema e Mr. X virgola Garavaglia visto che lui la lega è alleata col PDL speriamo i Mr. X per amore di Dio perché a questo punto siccome Grillo dice se la Gabanelli non va bene votate Rodotà che piace anche al PD il PD deve scegliere o vota Rodotà col Movimento 5 Stelle vota Rodotà votiamo a Giugno abbiamo finito o vota Amato D'Alema insieme a voi vabbè comunque torniamo di là qua mi chiedono tutti di commentare Cipro perché si commenta la questione di fare le cose nottetempo di nascosto eccetera ma a Cipro di fatto la manovra è stata fatta così ma è giustissimo commentare Cipro perché questo è potenzialmente l'origine di un'altra decisione distruttiva per noi potenzialmente analoga a quella della decisione di far fallire la Grecia che poi dopo è stata l'origine dei nostri casini allora Cipro io mi domando poi sentiamo anche loro però sempre in seconda battuta eh no esatti io quello che domando è quando è uscito fuori quella famigerata prima bozza approvata dall'Eurogruppo dove si arrivava con l'idea geniale di fare la tassa sui conti correnti per Cipro all'Amato all'Amato ma moltiplicato per l'Amato ha valuto solo 0,6 per 1000 dicendo oltretutto perché la cosa gravissima è quella vale a dire dicendo che questo potrebbe essere il modello per tutti i prossimi futuri salvataggi in questo caso l'Europa ci ha semplicemente detto una cosa ah che tutti i soldi che noi abbiamo messo nel fondo salva stati a salutare perché significa che se l'idea se c'è bisogno di fare questo se l'idea europea è che chiunque si deve arrangiare da solo i soldi che noi fino ad adesso enormi soldi che abbiamo versato però l'idea che fosse un apripista Borghi non è che l'ha detto l'Europa o l'ha detto no l'ha detto Gisselblom che è il presidente dell'Eurogruppo allora il presidente dell'Eurogruppo e poi dopo anche tutto sommato sono guardi template che stanno dicendo tutti si va più o meno in quella direzione lì ora nel momento prima cosa ci dice che i fondi salva stati non servono a niente chi ha dato ha dato chi ha avuto ha avuto noi abbiamo dato e abbiamo avuto 0 quindi giusto per capire il grande aiuto che l'Europa ci porta due nel momento stesso in cui tu dici che le banche non sono tutte uguali perché se una banca insiste in un paese un po' più pericoloso rispetto agli altri stai tirando potenzialmente un messaggio devastante nei confronti delle nostre banche e chiunque di noi che siamo minimamente addentro in economia sa che su dieci telefonate nove sono ma ho i soldi sicuri in banca in questo momento che è quello che ci dicono e tutti lo sappiamo che è così il risultato è chi è che ci ha fatto questo bel regalino vale a dire nel momento stesso in cui l'Europa dice che le banche in un paese non sono uguali alle banche di un altro perché potenzialmente sono tutte a rischio ti sta dicendo una cosa porta via i soldi tu dalle tue banche dell'Italietta e portale nelle banche della Germaniona perché prima o poi succede qualcosa che è la stessa cosa che è successa con lo spread perché lo spread da una parte ti dice vendi i titoli di stato dell'Italietta e compra quelli della Germaniona che infatti sono a zero il risultato di questa cosa è direttamente e ortogonalmente contro i nostri interessi il nostro brillante ministro dell'economia Grilli vogliamo dammila due come dice Baud il nostro brillante ministro dell'economia Grilli che era dentro nell'eurogruppo cosa ha detto per contrastare questa impostazione ortogonalmente contraria ai nostri interessi mi piacerebbe saperlo perché le decisioni dell'Europa arrivano se noi partecipiamo a queste decisioni perché se noi neanche partecipiamo a queste decisioni è stato silente secondo Borghi siamo in un mondo dove c'è della gente che ha degli interessi che sono contrapposti ai nostri perché ci avevano venduto che si faceva l'Europa contro il resto del mondo invece siamo Italia contro la Germania bisogna fare a chi è più competitivo è chiaro Borghi voglio sentire anche di là però è chiaro allora questa è la sua chiave di lettura di Cipro su questo discorso sono molto più vicino alla visione di Claudio avrei un approccio un po' diverso su quello che è la questione Cipro magari me la cavo prima come una battuta Cipro si è trovato in questa situazione perché è un paradiso fiscale quindi gli italiani stiano tranquilli vivono in un inferno fiscale per cui ecco come dire no poi va anche detto che voglio dire non so quanti hanno 100 mila euro sul conto corrente ecco esatto perché poi la fine del prelievo è stato fatto su chi ha più di 100 mila euro non in toto azioni, fondi eccetera ma tutti sul conto questo l'ha detto c'è il colpevole ritardo che ha evidenziato Claudio che nelle prime 24 ore la sacralità dei primi 100 mila euro qualcuno se l'era dimenticata comunque per fortuna poi sono rinsaviti e come dire hanno ribadito questo concetto per cui speriamo che l'esperienza di quelle prime 24 ore sia servita come dire sì l'insegnamento perdono la questione del salvataggio di Cipro con il prelievo sui conti correnti dipende dal fatto che le risorse di Cipro erano praticamente esclusivamente i depositi sui conti correnti a causa del suo ruolo di paradiso fiscale dentro l'area euro allora il nodo credo focale sia proprio qua cioè se noi consentiamo ad un paese di restare all'interno dell'area euro con il ruolo di paradiso fiscale e non possiamo neanche come dire addossare a quel paese l'intera colpa di essere di essere saltato perché gli abbiamo permesso di cioè Cipro è uguale agli altri ma è diverso dagli altri cioè nell'Europa come gli altri ma essendo un paradiso fiscale diverso se non abbiamo un'unione fiscale sì che è quella che dicevamo prima esatto se non abbiamo un'unione fiscale e non è soltanto colpa di Cipro cioè senz'altro è colpevole il fatto di come dire basare la propria economia sulla raccolta di capitali prevalentemente esteri offrendo scarsa trasparenza come faceva Cipro sostanzialmente è stata punita tra virgolette per questa metodologia purtroppo ha fatto degli investimenti sbagliati le banche cipriote hanno investito molto per ragioni geopolitiche per tante ragioni in titoli greci e si sono trovate col cerino in mano ora dare di tutta questa situazione la colpa alla sola Cipro che deve far fronte con un prelievo ingente di fatto disintegrando la propria industria finanziaria e poi restituendo l'intero aiuto all'Unione Europea negli anni credo che sia ingiusto e un brutto segnale in termini di però in base a quello che dice lei mi chiedono Bastianini chi è quel genio che ha fatto entrare nell'euro in paradiso fiscale questo è un altro discorso ma che cipro faccia cioè loro dicono visto che appunto ha queste caratteristiche così diverse perché l'avete fatta entrare sono gli stessi geni che addossano le colpe poi il depositante cipriota no è l'Europa che l'ha fatta entrare però allora chi l'ha fatta entrare ed è l'Europa che adesso decide chi l'ha fatta entrare non lo so ed è probabilmente stato sbagliato consentire che ci fosse probabilmente è stato sbagliato certamente è uno stato che applicava che non è neanche come diceva lui di poca trasparenza è di zero trasparenza allora io faccio l'avvocato e ho visto di operazioni di clienti fatte a cipro allora cipro è il posto dove arrivano depositi più o meno riservati da mezzo mondo soprattutto dalla Russia questo lo sanno tutti infatti chi è che si è agitato Medvedev si è agitato appena si è parlato di tassare i conti correnti io credo che il problema di fondo è quello che abbiamo detto cipro non dovrebbe essere per essere stato perché direi che ha finito un paradiso fiscale credo anche che i ciprioti veri che sono stati tassati sono pochissimi perché credo che poche persone a cipro abbiano quel tipo di disponibilità e soprattutto cash in banca credo che il discorso è un altro si è voluto di fatto tassare con un'imposta differenziata e successiva quello che non è stato tassato prima questo è il punto vero quindi questo vuol dire che noi non centriamo niente credo che sono situazioni completamente diverse quanto invece alla battuta che è vero che è stata fatta quella questo può essere una scuola di pensiero da seguire per il futuro è anche stata smentita però è stata smentita seccamente pochi giorni dopo qua mi chiedono ci sono altri stati come cipro in Europa cioè altri paradisi fiscali che possono fare la fine di cipro lussemburgo lussemburgo potrebbe lussemburgo sì ma non è la stessa cosa però non hanno una situazione di questo disagio due telefonate da 30 secondi prendiamone una pronto 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 chi parla Francesco da Milano mi sentite ci dica allora voglio innanzitutto ringraziare Borghi per quello che fa di divulgazione economica sì e poi volevo dire una cosa riguardo l'austerity quello che ha fatto Monti è stato esattamente quello che gli era stato chiesto dalla Merkel e infatti l'austerity ha provocato la disoccupazione che porta alla defazione di salare di cui parla Fazzina la questione è che la cosa comunque non si risolverà nemmeno se noi ritrattiamo il fiscal compact perché così anche se andiamo ad attutire il problema della disoccupazione lo squilibrio non si risanerà comunque se non usciamo ok quindi non è sufficiente rinegoziare il fiscal compact dice bisogna fare ben altro ce n'è un'altra pronto? pronto? pronto buonasera come si chiama? pronto? pronto? si è in linea ci dica si sono Bucci Mario di Gorlamaggiore si niente io volevo sapere chi era quel grande politico che ha avvallato a suo tempo quando siamo entrati nell'euro questa equazione allora 1000 lire un marco un marco un euro un euro 1936,27 lire non è proprio così cioè lei sta dicendo chi ha stabilito i cambi si sui cambi vuole sapere chi ha stabilito i cambi questa è la sua domanda ok grazie chi è che ha stabilito i cambi il mercato è stata presa una media dei prezzi di mercato in quel momento dove la lira presumibilmente era molto più apprezzata rispetto a quello che avrebbe dovuto essere invece il marco poi è stato svalutato ma non è quello il problema cioè io non darei troppo peso no torniamo torniamo al discorso della gomma della convergenza di prima se avessimo avuto il cambio a 1500 con le divergenze economiche comunque voglio dire all'inizio avremmo avuto dei vantaggi avremmo avuto un altro equilibrio di partenza ma saremmo comunque arrivati a dobbiamo sì sì lei a questa visione dice che alla fine andavamo contro il muro dopo andavamo contro il muro dopo invece così siamo andati contro il muro non siamo contro il muro per colpa dell'euro pubblicità poi era gravata pubblicità ma no ma scusa però diciamolo che non siamo contro il muro per colpa dell'euro pubblicità alta i ladri la sicurezza non è più un lusso Ferrinox presenta Eco3 l'esclusivo cancelletto di sicurezza per la vostra casa robusto sicuro inattaccabile certificato in classe 3 anti-effrazione Eco3 è sicuro questo nuovo sistema brevettato impedisce lo scasso i malintenzionati non hanno alcuna possibilità di fare leva sulla struttura lo spazio tra il telaio e le barre orizzontali è talmente ampio che nemmeno un piede di porco riuscirebbe a forzare questo rivoluzionario cancelletto Eco3 è snello l'unico ad avere l'anta senza tubolare perimetrale garantisce la massima sicurezza senza ostacolare in modo eccessivo il passaggio della luce Eco3 è pratico caratterizzato da un particolare snodo brevettato permette di piegare e ruotare l'anta che si sovrappone alla persiana si può aprire anche internamente così potete chiudere le persiane esterne senza complicazioni Eco3 è preciso il telaio perimetrale è dotato di compensatori che proteggono i punti di fissaggio e aderiscono al muro anche quando questi non sono perfettamente allineati Eco3 è resistente dotato di una serratura con una corsa di scorrimento di ben 25 mm ben il 70% in più delle serrature convenzionali chiude in profondità e rende molto più difficoltosa la forzatura di tutti i punti di chiusura Eco3 è semplice tutte le serrature sono unificate con la stessa chiave Eco3 è bello si può realizzare ad una o due ante con o senza borchie interamente costruito con materiale zincato e verniciato con polveri epossidiche in molteplici e gradevoli colorazioni questo speciale trattamento garantisce una lunghissima durata nel tempo la gradevole estetica di Eco3 evita di farvi sentire in prigione a casa vostra vi difenderà anche dalle zanzare Eco3 può essere costruito con zanzariera incorporata in uno spazio ridottissimo solo 70 mm il prezzo davvero interessante e conveniente avere un cancelletto Eco3 non è più un lusso il costo è pari ad un tradizionale cancelletto di costruzione artigianale non certificato e privo di garanzia ed ora Eco3 è anche in versione plus con serratura a doppio pistone con una corsa di 35 mm in acciaio antitaglio diametro 18 contattateci contattateci al numero in sovraimpressione oppure venite a trovarci nei nostri showroom vi renderete conto che da oggi con Ferrinox la qualità e la sicurezza non sono più un lusso Eco3 fa la differenza eccoci ho tolto la parola a Garavaglia beh non so da dove iniziare allora inizio da Cipro sì su Cipro Cipro però su di noi proiettiamo tutti su di noi no no ma lo proiettiamo su di noi infatti il timore reale di questa operazione geopolitica molto pesante perché se tu te la prendi sulla mosca Cipro c'è qualcosa che non quadra è il rischio che poi i russici chiudono il rubinetto del gas a novembre però questa la butto lì solo come osservazione da tenere da tenere sott'occhio detto questo tornando alle robe nostre esatto alle cose nostre qui abbiamo dei problemi di fondo prima abbiamo citato Paolo Savona che era venuto in audizione da noi proprio perché volevamo sapere da parte di chi era all'epoca ministro e quindi aveva gestito l'operazione entrata nell'euro un po' com'era la faccenda e gli abbiamo fatto la domanda usciamo non usciamo e lui ci rispose guarda la cosa migliore era uscire subito adesso abbiamo fatto perché uscire appena entrati no uscire all'inizio della crisi adesso abbiamo fatto perché uscire porta una svalutazione 25-30 adesso abbiamo fatto sacrifici che ci portano a una svalutazione 25-30 e quindi il risultato è che ci becchiamo l'ulteriore svalutazione questa è l'osservazione si direbbe oltre che cornuti mazziati esatto l'osservazione di Polo Savona che cito tal quale giusto per essere precisi l'errore è stato secondo noi nel perseguire senza proprio un minimo di schiena diritta le imposizioni che ci ha dato l'Europa dell'austerity dell'austerity perché l'effetto è stato assolutamente devastante prima si parlava di inferno fiscale faccio quell'esempio qui cos'è meno ci capiamo tutti al volo la genialata di mettere la tasso sulle barche mettiamo 200 milioni di euro di tasso sulle barche qual è stato il risultato di 200 milioni di euro di tasso sulle barche ne abbiamo incassati 20 quindi ne abbiamo persi 180 che nel frattempo logicamente sono stati spesi quindi 180 spesi e abbiamo perso un miliardo di indotto quindi il risultato questo è un esempio di come la politica è un esempio io ho citato le barche ma la stessa cosa è l'Imu sulla casa cos'è 25% in meno sul mercato immobiliare l'auto abbiamo portato la deduzione delle auto aziendali l'abbiamo massacrate chiuso il mercato delle auto aziendali tutto questo per andare dietro la Merkel e la politica di austerità dell'Europa e per trovare soldi per trovare anche della sinistra come impostazione intellettuale perché io questo se mi permettete la battuta il numero di cravate rosse nel governo Monti era nettamente superiore quelle azzurre democristiane e quindi c'era una certa impostazione vedi le barche vedi l'Imu tutta una serie di cose però il risultato cos'è stato tu hai depresso il mercato delle barche abbiamo fatto l'esempio per incassare 20 miliardi ne abbiamo persi 1180 quindi domani un governo normale che va lì e dice la tiro via guadagni un miliardo non so se è chiaro il concetto ma il governo Gravaglia secondo lei aveva la possibilità di contrattare diversamente Monti aveva la forza politica di contrattare qualcos'altro cioè di non subire quella che lei sta definendo una vessazione quando vennero i commissari europei a interrogarci perché eravamo in commissione bilancio io ero in commissione bilancio vicepresidente commissione bilancio al senato e fumo interrogati io e il presidente e questi ci dissero sì vabbè ma ho fatto così o noi non comprami i vostri botti andate in fallimento quindi diciamo che non c'è non è che le condizioni erano libere c'è stata una sorta in questo intende una sorta non dico di ricatto ma di diciamo ricatto una parola grossa però un discorso del genere fatto penso i leader politici ha portato poi a delle scelte di un certo tipo cioè se voi non fate così non compriamo i vostri titoli di Stato sostanzialmente velatamente c'era questa minaccia e poi il risultato è stato qual è stato che noi abbiamo veramente fatto una politica fiscale portando l'imposizione a un livello insostenibile ma per cosa le abbiamo usate questi soldi teoricamente per tappare un buco che in realtà è aumentato perché il pile è crollato cioè la favola del pareggio di bilancio adesso non parla più adesso dico pareggio di bilancio strutturale insomma c'è una formula che non capisce niente nessuno pareggio di bilancio è quando sono uguali entrate e uscite a casa mia se entrate e uscite erano meno 41 nel 2011 e meno 41 adesso allora non abbiamo combinato niente nel frattempo il pile è crollato i consumi sono crollati però lo spread è sceso ma che è sceso lo spread è sceso l'ha detto prima Borghi è sceso quando hanno iniettato liquidità finita l'anestesia è risalito l'anno scorso lo spread è stato tutto l'anno finita l'anestesia di Draghi a 4,50 4,50 è stato tutto l'anno sopra i 400 il problema dello spread è il tasso tedesco minca noi dobbiamo guardare a quanto vendi il bot non lo spread non è così difficile quanto sono quantati i nostri bot non è una roba difficile da capire quando vendevi i bot al 7-8% non mi sembra io volevo che Bastiani rispondesse perché questa accusa che ha fatto Caravaglia che tutto gira su YouTube questo video suo quando lui dice appunto che in commissione bilancio all'Europa aveva fatto questo avvertimento dicendo se non fate quello che diciamo noi non copriamo i vostri titoli vorrei essere breve ma datemi modo di rispondere a parte che dobbiamo guardare comunque al tasso dei bot non capisco qual è l'argomento i bot al 7-8% sono diversi dai bot al 3% quindi non capisco perché la cosa non è importante no ma scusa anche l'anno scorso quando era a 4,50 non si può parlare perché è stato il 4,50 da luglio tra i 400 e i 450 tutto l'anno non le abbiamo vendute al 7 di che parliamo perché i tedeschi sono andati scusa no no voglio riferire un attimo sentiamo la sua replica politica perché il fatto che ci sia una Stato questa sorta di ricatto chiariamola la replica politica allora a parte che su quello che tu chiami ricatto cioè ma viviamo in un sistema o viviamo da soli allora se viviamo in un sistema non è che possiamo pretendere che gli altri comprino titoli di Stato italiano ai tassi che piacciono a noi con l'affidabilità che comunque è quella che abbiamo come paese quindi non è un problema di ricatto è un problema di mercato allora è evidente che non ci comprano i bot a dei tassi che non ritengono interessanti perché ritengono che siamo più a rischio di altri paesi punto ma è molto semplice non ci vedo un ricatto ci vedo un dato di fatto normale in qualunque settore in qualunque settore della vita quindi non è un ricatto politico ma una questione economica viene detto perché è così ma perché mai dovrebbero farlo ci fanno della beneficenza non riesco a capire poi scusami sul resto aspetta fammi finire aspetta hai parlato un quarto d'ora ma fammi finire per favore prego dopodiché io non ho fatto parte del governo Monti e quindi possono aver fatto le cose che condivido più di altre in particolare non condivido l'imposta sulle barche che tu hai citato e sono d'accordo con te che è stato un problema per il mercato nautico ma non è questo il punto il punto è e non voglio tornare indietro ma ci siete tornati voi perché siamo arrivati lì ma che paese avete lasciato voi ma voi avete fatto delle riforme serie no non le avete fatte non avete neanche toccato le pensioni più di tanto perché Bossi non le voleva toccare siete andati avanti anni avete abolito le province avete fatto la Fornero che bella riforma ho capito che è meglio del nulla che è stato fatto prima avete abolito le province no non le avete abolite perché non vi comodava e ce l'avete fatta anche nel programma elettorale devo rispondere sì però poi diventa un'accusa politica del passato ma ho capito ma non è nel passato viene a dire che la riforma Fornero è una roba giusta ma fammi finire avete impedito qualunque riforma strutturale del paese in questo anno passati i primi tre mesi in cui tutti impauriti avete votato tutto poi avete cominciato a farvi ciascuno gli interessi propri di qua e di là e voi voi intendo il centro-destra la Lega non era neanche nel governo comunque rigidamente contro qualunque forma di liberalizzazione in questo paese i vostri alleati addirittura contro anche una legge anticorruzione degna di questo nome questa è la situazione non diamo colpe che non ci sono però questi ripeto sono analisi dei governi passati ma l'ha tirato in ballo lui allora lui ha fatto un'accusa alla Troica dicendo che la Troica ha fatto questa sorta di ricatto all'Italia io volevo la sua versione però se andiamo a vedere tutti gli errori del governo non finiamo più ma io mi ricordo qualcuno che a luglio ed agosto stava le notti a scrivere una letterina all'Unione Europea alla Banca Europea perché avevate paura non sapevate neanche cosa scrivere con sta lettera che girava anche sui giornali veniva cambiata ogni giorno la famosa lettera della DC un'umiliazione una vergogna ma vogliamo parlare di questo? parliamone allora no ma soprattutto parliamo dei bot che giustamente Caravaglia diceva non è tanto lo spread cioè il tasso decennale che influisce sulla salute del bilancio pubblico quanto il tasso dei bot perché il bot scade a breve e quindi lo devo rinnovare di continuo quindi ho un impatto immediato sul costo e soprattutto la salute però il bot noi avevamo a gennaio 2012 il bot al 7% il whatever it takes di Draghi quello che ha determinato realmente la salute del bilancio pubblico secondo Borghi è venuto a fine giugno del 2012 il bot è sceso molto prima e certo perché garantiva fino a tre anni bravo è stato nelle TRO di mezzo diventate troppo tecnici non vi seguono più siete troppo tecnici no beh comunque no l'ultima pubblicità prendo le ultime due telefonate che tanto sono 30 secondi in una e poi mandiamo la pubblicità pronto? 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 sì buonasera ci dica buonasera sono Aldo vicino a Bergamo volevo segnalare soltanto una cosa da quando è iniziato il problema il problema è iniziato all'inizio all'inizio del 2000 abbiamo avuto anche dei paesi partner molto vicini al nostro con dei debiti pubblici molto pesanti tipo la Finlandia e il Belgio e addirittura nel 2002 hanno iniziato gradualmente ad una riduzione del debito tanto è vero che oggi la Finlandia e il Belgio sono in una situazione completamente diversa la Finlandia ricordo oggi è una tricla ancora nonostante il marco finlandese nove anni fa abbia avuto dei problemi abbastanza fiosi ok quindi iniziato già dal 2000 grazie Aldo ce n'è un'altra? pronto? pronto? sì buonasera buonasera pronto? sì è in Londra in Londra in diretta ah scusi niente io volevo dire a bimbo micchia no 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 allora scusi cominciamo allora questa è una tradizione cordiale quindi usiamo termini cordiali tutti quanti ok grazie perché se no partiamo male mandiamo la pubblicità e poi torniamo SEMotors concessionaria Nissan Exclusiva per Monza e Brianza propone Nissan Qashqai a partire da 16.950 euro nelle versioni GPL con bonus fino a 3.000 euro di sconto e abbiamo disponibile ultime vetture diesel a prezzo di benzina vi aspettiamo da SEMotors spazza canino libera speciali sostanze catalitiche che scompongono le incrostazioni presenti nelle tubazioni Autovilla Ford Partner per Milano Nord via Spetta nello showroom di Viale Gramsci e nella sede storica di Viale Casiraghi a Sesto San Giovanni due grandi esposizioni per ammirare tutta la gamma delle autovetture e dei veicoli commerciali Ford ma da Autovilla troverai anche un vasto parco di autovetture usate ed aziendali di tutte le migliori marche del mercato tutte garantite e ai migliori prezzi da sempre Ford Autovilla è esperienza e serietà Autovilla in Viale Casiraghi 504 in Viale Gramsci 757 a Sesto San Giovanni Cara mamma cosa leggi al tuo bambino? Non perdere il mensile più completo a misura di bambino dai 3 ai 6 anni ogni mese fiabe e filastrocche da leggere insieme fumetti pagine da colorare tanti giochi e idee per le attività con il tuo bambino e consigli per mamma e papà G-Baby è realizzato da esperti dell'infanzia un aiuto valido e creativo per crescere bene ogni giorno e su ogni numero in regalo una storia illustrata di G-Baby primi libri G-Baby scegli il meglio per il tuo bambino in edicola e in parrocchia se stai cercando un'auto scegli Volvo da Svezia Car guarda che prezzi XC70 km 0 vari allestimenti e colori da 38.200 euro XC90 km 0 vari allestimenti e colori da 40.100 euro XC60 km 0 vari allestimenti e colori da 26.990 euro tutti i prezzi sono coniva esposta ma affrettati perché sono disponibili solo gli ultimi esemplari in pronta consegna Svezia Car la tua Volvo a Milano in via Kulischoff 6 e sul web sveziacar.it si sono lasciati il carcere minorile Beccaria alle spalle pronti a giocare una nuova sfida una nuova partita ci racconteranno la loro voglia di riscatto la loro voglia di costruirsi un futuro migliore vi aspettiamo a che storie ben ritrovati adesso abbiamo ancora un quarto d'ora per parlare di euro poi c'è un cambio di scena e arriva qui il sindaco di Milano Giuliano Pisapia per parlare della situazione milanese e non solo però io ho visto che l'ultimo quarto d'ora adesso intanto il sondaggio lo chiudiamo sarebbe giusto uscire dall'euro ci dicono da casa sì per il 91% no per il 6% e non ho strumenti per il 3% quindi Bastianini prima diceva è ovvio che dicano così perché la gente crede che sia una soluzione la gente giustamente non conosce tutti gli aspetti tecnici quindi pensa semplicemente la gente oggi disperata in difficoltà è chiaro che è pronta a provare tutto gli viene detto uscendo dall'euro si risolve tutto il problema recuperiamo la sovranità facciamo quello che vogliamo gliela facciamo vedere a noi e alla Germania e uno cosa vuoi che dica e dica proviamo ma è un modo evidentemente sbagliato di porlo il problema questo è per questo non è che ce l'avessi col sondaggio ma credo che la domanda posta così dovrebbero rispondere al 90% non ho abbastanza elementi per decidere perché non se ne parla molto se ne parla sedi di nicchia credo che la gente non abbia ben compreso quali sono vantaggi io ogni tanto la faccio la tradizione sull'euro proprio anche per spiegare la sua soluzione qual è allora visto che la situazione c'è una situazione di austerità di austerity imposta dall'Europa c'è una situazione di crisi la mia soluzione è molto semplice non credo che dobbiamo uscire dall'euro credo che dobbiamo restare perché sono molti di più alla fine i vantaggi degli svantaggi che avremmo provando ad uscire soprattutto provando ad uscire in modo così brusco come è stato ipotizzato credo che prima dovremmo finire di rimettere le cose a posto in casa nostra e in maniera sicuramente più strutturata di come sia stato fatto in questo anno e Monti non poteva fare altro ci sono 50 anni di cose non fatte ci sono riforme pesanti da affrontare c'è una pubblica amministrazione da cambiare la spesa pubblica da tagliare in modo sostanzioso ci sono importantissimi aspetti che dobbiamo risolvere da soli dopodiché quando saremo pronti a ridiventare un paese competitivo cosa che non siamo e quando avremo finito il giro vizioso e spero saremo anche usciti dalla procedura di infrazione in cui ancora siamo a causa del governo Berlusconi in quel momento lì saremo credibili per andare a discutere e farci rispettare così come si deve fare in Europa quello che ci interessa cambiare ma perché non possiamo ipotizzare di cambiare le cose perché l'unica via d'uscita deve essere quella allora usciamo dall'euro ma rendiamoci conto che sarebbe una follia soprattutto una follia per le generazioni future ok quindi resta dicendo in sintesi rafforziamoci e poi dopo se ne discute rendiamoci credibili come ho detto all'inizio per andare a negoziare bisogna essere credibili e presentarli e poi andiamo a negoziare Garavaglia prima i politici poi gli economisti cosa facciamo come se ne esce ma guardi semplicemente tentare di rispettare queste regole ci porta nel giro di pochissimo al fallimento totale quindi è evidente che è insostenibile l'impianto del fiscal compact quello che ci sta dietro le faccio un esempio banale noi qui in Lombardia avremmo pronto domani domani no un miliardo di euro da mettere sul campo con Fil Lombarda per le imprese per le imprese quello di cui ha parlato Maroni esatto ma c'è un problema tu li dai ai comuni per pagare le imprese i comuni non possono per il patto di stabilità ma di che parliamo dove vogliamo andare queste sono regole che non hanno più nessun significato ma ce l'abbiamo l'autorità in Europa per contrattare ma non è questione di autorità in Europa se una regola è sbagliata la cambi punto non è che poi non è che recuperi competitività facendo chiudere tutte le aziende a quel punto è chiaro il costo del lavoro va sotto zero perché sono tutti disoccupati allora lavoriamo come le formichine ma non chiudono per colpa dell'euro ok no no scusate se non ce la faccio quindi lei sta dicendo che bisogna rivedere tutte le regole o si cambiano le regole in particolare il patto di stabilità che ci sta portando al tracollo o cambia queste regole però questo non vuol dire uscire dall'euro grava no allora se ormai l'euro è una questione di politica estera non è una questione economica dal punto di vista economico sarebbe già uscita la Germania l'euro sta in piedi per banali questioni di politica estera però lei dice cominciamo a farci rispettare di più cominciamo a ragionare su cose che ad esempio il patto di stabilità ma per amor di Dio sono tutti d'accordo poi non cambia mai perché questa è la sua richiesta al governo no ma lo sforiamo tutti è finito ah beh certo siamo d'accordo siamo d'accordo su questo si è d'accordo questo voglio vedere uno che non è d'accordo sul fatto di vedere il patto di stabilità ma vuol dire andare in inflazione domani come se ne esce come se ne esce quindi andiamo sul 3 a 0 per restare nell'euro a questo punto poi c'è il voto di Borghi che spostano gli equilibri no ovviamente il mio pensiero è che sia opportuno restarci nell'euro e rivedere per l'appunto quelle che sono quelle che sono le situazioni in termini di accordi di fiscalità e in termini di accordi di accordi politici tutto questo anche perché la stessa Germania che il fiscal compact non lo accetta c'è anche da dire questo che la stessa Germania dice di no al fiscal compact quello che voglio dire non è che nel dire questo si nega l'esistenza di problemi riporto una notizia di oggi che onestamente a me allarma molto il fabbisogno pubblico oggi è stato rivisto rialzo e le emissioni di debito pubblico quest'anno sono state aumentate nel programma da 415 a 450 miliardi è una cifra molto importante ed è la misura della situazione di difficoltà in cui viviamo pensare di scappare di risolvere questa situazione di difficoltà semplicemente cambiando moneta perché una svalutazione sarebbe un tocca sana come dire senza contropartita perché a me la cosa che infastidisce un po' di questo ragionamento è che viene presentato come una operazione che non ha controindicazioni è solo benefica non c'è problema basta che c'è una visione un po' bucolica dell'uscita dell'euro cosa vuoi che sia usciamo dall'euro chiudiamo le banche una settimana sperando che tutti i commercianti abbiano già fatto il magazzino perché voglio dire non avranno possibilità di operare per esempio con i loro fornitori non c'è problema va tutto bene e dal giorno dopo si ricomincia con la moneta nuova insomma mi sembra un approccio se vogliamo fare semplicistico se vogliamo fare veramente come dire preparare pregare consapevolezza in quello che stiamo vivendo credo che non sia un approccio qua mi dicono state dicendo tutti di rinegoziare ma se l'Europa ci dice di no e non si rinegozia che facciamo? salta il banco salta il banco adesso chiudo arrivo da Borghi però c'è anche quella possibilità perché io per prima dico andiamo in Europa e diciamo che noi non siamo gli schiavi della Germania però se ci dicono di no salta il banco dice Caravaglia ma diranno di sì a settembre perché vanno al voto a settembre e anche da loro cambierà qualcosa beh evidentemente voglio dire il discorso euro siamo tutti concordi nel dire che chi ha guadagnato di più dall'euro in questi 12-13 anni è stata la Germania nel momento in cui nel dibattito preelettorale l'opinione pubblica tedesca se ne renderà conto in maniera concreta e assegnerà a quel movimento euro scettico che sta nascendo da cui siamo partiti vedremo l'entità del consenso che raccoglierà a questo punto presumibilmente avremo anche un governo tedesco con un mandato decisamente più europeista diverso Borghi è d'accordo con questa previsione? no 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 ma io vorrei semplicemente fare un riassunto molto veloce no allora tutte le obiezioni sul correttamente come hai anticipato tutte le obiezioni sul fatto di rinegoziare si infrangono sulle se ci dicono di no è certo quindi noi possiamo anche dire che andiamo in Europa dicendo che Berlino la trasferiamo a Milano però se ci dicono di no è finita quindi il fatto già stesso di non pensare a piani B è irresponsabile quindi togliamo sgombriamo il campo da tutte queste cose qua e facciamo conto che i conti siano esattamente come sono adesso cause no? allora giustamente uno dice noi abbiamo i nostri difetti e chi non li vede? basta guardarsi intorno i difetti i difetti ci sono ma di certo il difetto non è il debito pubblico perché se il difetto fosse il debito pubblico la Spagna o l'Irlanda che non ne avevano a quest'ora sarebbero i paesi più virtuosi del mondo invece sono saltati prima di noi di certo non è la casta perché altrimenti l'India sarebbe fallita da molto tempo ne hanno tre e sono oltretutto stabilizzati scherzo ma meno carne della nostra il conto è quello meno costoso poi dopo di sicuro non è la corruzione perché seppure è una cosa molto fastidiosa non mi risulta che in Cina non ci sia la corruzione oppure in Giappone ricordiamo che la ditta che è stata al centro del più clamoroso caso di corruzione internazionale accertato è stata la Siemens e quindi posso anche così posso anche sfidare la querela perché gli articoli sono direttamente dallo Spiegel loro pagavano direttamente in tutti risulta che pagassero però non si può sanare tutta la corruzione dicendo siccome non c'è a dare il fatto che ci siano dei problemi il fatto che ci siano dei problemi vanno indirizzati in maniera precisa perché odio la corruzione odio la casta odio le cose ma non c'entrò niente con gli squilibri economici in cui noi adesso in questo momento ci stiamo trovando il nostro è un problema di bilancio di pagamenti è un problema di bilancio di pagamenti e in modo secondario è un problema diciamo questo cronico diciamo così il fatto che ci sia una cosa della spesa pubblica di Stato certo non è un problema di spesa pubblica perché altrimenti la Spagna certo non è un problema di recuperare soldi no attenzione certo non è un problema di spesa pubblica perché se fosse un problema di spesa pubblica la Spagna che ha il 34% di spesa pubblica sarebbe saltata mai sarebbe in questo momento il paese più virtuoso del mondo la Francia è una spesa pubblica maggiore della nostra quindi bisogna andare a vedere cosa sono i punti precisi di questa cosa e mi piacerebbe avere la possibilità con la fantasia di spaziare in altre soluzioni esempio e poi dopo la chiudo lì giusto per dare uno spunto futuro il fatto di aver stabilito che ci può essere una moneta staccata dagli stati nazionali come l'euro ci deve far pensare che allora su questa linea di pensiero potrebbe anche esserci uno stato nazionale con più monete e quindi ragionare per esempio per risolvere su uno delle nostre squilibri che è insanabile perché uno quando dice l'Italia deve essere controllata come la Germania mi deve dire che domani il sud Italia diventa come la Baviera e dato che non è possibile fare così si potrebbe anche pensare in Italia dato che ci sono due aree non omogenee come il nord e il sud di pensare una lira nord e una lira sud per esempio beh i saggi hanno parlato di due politiche economiche diverse si potrebbe un approccio più soft però anche i saggi sono arrivati ma almeno sapere che siamo in concorrenza con la Germania e quindi la credibilità con i nostri concorrenti non serve a nulla servono semmai le minacce devo chiudere e che ci possono essere invece delle soluzioni ma almeno rendersi conto dei problemi e non inseguire delle cose che non sono un problema che non sono un problema 20 secondi 20 secondi siccome dobbiamo pensare a un piano B se ci dicono di no piano B potrebbe anche essere quello di richiedere la facoltà di emettere una valuta parallela per il paese Italia affiancata ad un piano di riallineamento di lungo termine in modo da comprarci cioè stare con due monete comprarci il tempo che ci serve temporaneamente temporaneamente quindi senza variare le condizioni diciamo strutturali quindi rimanendo nell'euro mi prendo l'impegno di adeguarmi strutturalmente però mi serve il tempo per farlo per cui chiedo visto che non ottengo stiamo parlando del piano B non mi permettete di rinegoziare però mi permettete di avere una seconda moneta per un tempo e questa era facciamo che la prossima puntata sull'euro partiamo da qui i pro euro sono anche loro belli contro mi fa questa chiusura mi fa questa chiusura boh dall'ultimo momento mi lasciano così però io adesso devo salutarvi devo ringraziare tutti quanti per essere stati qui però c'è il sindaco di Torna Porta quindi devo mandare la pubblicità e far entrare il sindaco di Milano Pisapia per parlare di quello che succede a Milano io chiedo a Gravaglia invece se potremmo avere anche il presidente della regione qualche volta qui speriamo insomma lavoriamo visto che viene il sindaco speriamo di riuscire ad avere anche il presidente della regione grazie a tutti voi grazie grazie a chi ha seguito il dibattito tantissimi su Twitter continuate ovviamente non parliamo più di euro ma parliamo di Milano tra poco il tuo bagno dei sogni è da Dimensione Bagno dove trovi un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo Dimensione Bagno la scelta giusta per il tuo bagno di qualità Ducati Monza un grande showroom di 250 metri quadri di un'area assistenza e ricambi di oltre 500 metri quadri a Monza in Viale Sicilia 102 tutto dedicato alle rosse di Borgo Panigale Ducati Monza si propone di vivere il mondo Ducati insieme a tutti gli appassionati e perché no dare la possibilità a chi ancora non la conosce di avvicinarsi a questo mondo e di apprezzare tutta la sua qualità e sportività Ducati Monza offre test ride rimessaggio noleggio tagliandi assistenza revisioni finanziamenti leasing e abbigliamento e accessori Ducati Monza Viale Sicilia 102 Monza e sul web ducatimonza.it Bentornati alla Materassi Starflex la vostra fabbrica del riposo il nostro personale specializzato vi guiderà fra i nostri prodotti dedicandosi a voi e al vostro riposo la Starflex non è solo rete e materassi da noi troverete un'ampia scelta di letti in ferro battuto imbottiti in legno veniteci a trovare nella nostra sede di Locate Triulzi o a Cislago sulla strada statale Varesina nelle nostre sale prove troverete tutti i materassi della nostra gamma esposti tutti rigorosamente artigianali personalizzati e realizzati qui da noi in Italia non perdetevi le nostre sensazionali promozioni materasso matrimoniale a partire da 144 euro materasso singolo a partire da 72 euro rete elettrica a soli 525 euro rete elettrica con materasso in lattice a soli 649 euro materasso memory con fodero allergico a soli 249 euro approfittate dei nostri finanziamenti a Tanzero Starflex vendiamo materassi regaliamo sogni solo da Jaguar Monza un'ampia disponibilità di Jaguar XF 2.2 turbo diesel full optional cambio automatico navigatore big seno sedili in pelle plancia in pelle full full optional telecamera posteriore sensori di parcheggio a 37.500 euro la trovi sul sito jaguarmonza.it ma chi l'ha detto che Bertoni è solo campeggio Bertoni è uno stile di vita all'aria aperta e per vivere l'aria aperta insieme al vostro bambino guardate gli zaini porta bebè di Jack Wolfskin Deuter Faudet e La Fuma venite a scoprirvi da Bertoni in Viale Fugliotesti 140 a Cinisello Valsamo i nostri ragazzi sono la cosa più preziosa che abbiamo ma anche la più fragile e oggi sono a rischio già a 11 anni dobbiamo arrivare prima prima che la loro vita si spezzi da 25 anni io ed Exodus siamo dalla parte dei ragazzi oggi con un sms al 45509 o una chiamata da rete fissa puoi costruire con Don Mazzi un nuovo centro giovanile 45509 per Exodus aiutaci dobbiamo arrivare prima bene rieccoci come promesso adesso lasciamo l'euro e invece è tornato a trovarci il sindaco di Milano Giuliano Pisapia che ringrazio per essere qui grazie mille ha scelto Telenova ha scelto linea d'ombra e questo ci fa grazie a voi e buona sera anzi buonanotte ai spettatori ci hanno seguito finora a parlare dell'euro adesso parliamo parliamo d'altro senta sono giorni caldi per il Quirinale giovedì c'è la prima seduta la prima domanda gliela faccio nazionalissima cioè chi ci vuole come nuovo capo dello Stato beh ci vuole un garante della Costituzione ma cosa significa perché quella poi è una parola che può essere vuota anche se invece è piena di contenuti una persona che garantisca di essere veramente al di sopra delle parti ci abbia secondo me capacità istituzionale quindi una precedente esperienza istituzionale che sia stimata dall'italiano e dagli stranieri all'Italia all'estero e una piccola esperienza politica secondo me è importante purché non sia un politico di professione perché io credo che non può rappresentare tutti gli italiani una persona che non ha mai avuto con tutto il rispetto per la politica un lavoro autonome una professione e che non abbia vissuto quotidianamente quello che vive la gran parte delle persone purtroppo in questo periodo no perché ci sono tanti disoccupati tanti giovani senza lavoro però una persona che ha vissuto normalmente che ha vissuto nel mondo del lavoro e che però ne sappia anche di politica quindi non solo un esperto di diritto no è fondamentale che abbia una capacità politica ma nel senso positivo di saper trovare o suggerire il punto di equilibrio tra posizioni diverse però avendo come garanzia i principi costituzionali quindi però una figura che unisca non che divida il più possibile il più possibile perché bisogna comprendere che in questo momento si esce dalla crisi da una situazione di difesa solo se si è uniti il che non significa governare insieme significa essere uniti rispetto agli obiettivi devo anche dire però anche persone che hanno diviso come il presidente napoletano che è stato eletto praticamente da una maggioranza si è stato eletto a maggioranza poi è riuscito a conquistarsi con i fatti non solo con le parole ma con i fatti il riconoscimento e la gratitudine e soprattutto il rispetto della stragrande maggioranza degli italiani e anche dell'altra parte però lei i nomi non me ne fa io ne ho già fatti ci sono tanti chi vedrei come persona che riassume questi diciamo presupposti secondo me poi chiaramente poi bisogna vedere dopo sicuramente Stefano Rodotà Stefano Rodotà è stato vicepresidente ha la competenza ha il lavoro è il garante della Costituzione ha sempre avuto rispetto per gli avversari e ha sempre ritenuto che gli avversari non fossero nemici ma fossero persone con cui discutere salvo poi fare le scelte politiche l'età non è un problema 80 anni sì però chi l'ha visto recentemente sa che è ancora molto in forza è ancora molto dinamica e soprattutto è molto riflessivo basta leggere l'ultimo suo libro o altrimenti credo che sarebbe anche segnale forte una donna ma perché è giusto anche il cambiamento di genere però donne con questa caratteristica di unicità forse c'è la Bonino non lo so credo io quando mi hanno chiesto due nomi non volevo farle adesso li faccio avete già fatto ho detto ci sono tante persone chiaramente tante significhe 20, 30, 50 persone che hanno quelle caratteristiche se proprio dovesse dire cosa farei io la Bonino è tra le persone che hanno quelle caratteristiche ecco forse per lei è più difficile essere al di sopra delle parti però in tutti i ruoli istituzionali che ha avuto anche lei come riciclare precedenti di una delle due camere come commissario europeo ha lavorato benissimo operato benissimo e ha dimostrato la sua imparzialità dal punto di vista istituzionale il che non significa come alcuni pensano che uno non deve avere le proprie idee deve essere il Presidente della Repubblica colui che pur con le proprie idee però nel momento in cui fa valutazioni che sono anche determinanti per il futuro del paese valuta l'interesse complessivo e non l'interesse di una parte solo di una parte poi torniamo sulla politica nazionale adesso però andiamo a Palazzo Marino parto dai dolori cioè dal bilancio da questa notizia di questi 400 milioni che mancano ieri l'assessore Balzani ha detto niente sarà più come prima con questa frase apocalittica che ha spaventato tutti sono voi dovete pensare a dover recuperare questi soldi tagli nuove tasse più o meno a cosa state pensando? Già mi ha fatto perdere sorriso con questa domanda poi c'è il dolce in fondo no allora innanzitutto bisogna mi permetto di spiegare come siamo arrivati in questa situazione non è che abbiamo speso di più in spese inutili è che i servizi sono aumentati servizi alla città e servizi alla polizia perché i bisogni sono aumentati quindi sono aumentati i sussidi gli aiuti ai soggetti più deboli gli investimenti nel mezzo pubblico perché è giusto che si usi meno il mezzo privato perché molti hanno deciso anche per il costo dell'autovettura e della benzina di non usare per fortuna il mezzo privato e quindi l'aumento dei costi ha determinato uno sbilancio e c'è una differenza tra le entrate perché poi abbiamo anche noi ricordiamoci l'addizionale IRPF più bassa di tutta Italia l'esenzione più alta di tutta Italia noi finora abbiamo mantenuto l'uomo prima casa al minimo indispensabile al minimo previsto dalla legge soldi che peraltro sono andati al governo accanto a questo abbiamo dettagli notevolissimi del governo negli ultimi anni 380 milioni in meno e questo ha creato questo sbilancio e dobbiamo ridurre le spese com'è possibile ridurre le spese in una situazione in cui non ci sono sprechi rivalutare tutto e vedere di dare tutti quei servizi che sono effettivamente necessari e forse riuscire a spiegare quindi poi a fare una politica per cui chi ha di più dia di più chi ha di meno dia di meno e rispetto a chi ha bisogno non si faccia una selezione ma si valuti e anche una gradualità dei servizi che offre la città chi ha più bisogno riceva di più dalle istituzioni chi ha bisogno ma meno bisogno riceva di meno questo significa una rivisitazione completa in base al reddito quando l'assessore a bilancio dice niente sarà più come prima vuole dire quanto sarà difficile bisogna proprio cambiare mentalità e cioè non dare un servizio dare un sussidio dare un incremento rispetto a un'attività a tutti coloro che la chiedono chiaramente con determinante ma andare a verificare se è veramente bisogno se quella persona ha veramente bisogno o può farcela anche con un aiuto diverso da quel economico ma quindi ad esempio sto pensando ai trasporti pubblici per gli anziani perché si è parlato di quell'ipotesi lì quindi di cambiare di modulare le tariffe a seconda del reddito questa è un'ipotesi quello è un esempio che ho fatto io per dire che su questo non abbiamo ancora deciso nulla stiamo valutando adesso prima i tagli che dobbiamo fare e poi vedremo se sarà necessario aumentare le tariffe o fare altre misure quindi prima pensate ai tagli poi eventualmente essendo da recuperare centinaia di milioni prima dobbiamo vedere cosa recuperiamo risparmiando sulle spese che non sono spese volutarie sono spese anche necessarie ma cercando di fare della necessità un virtù e poi vedremo io ho fatto quell'esempio oggi ad esempio l'abbonamento per chi ha superato i 65 anni ha a secondo del reddito una gratuità o una serie di sconti allora io ho 64 anni chi ha un reddito sufficiente per resistere in questo periodo di crisi in una situazione però in cui queste misure sono presi posti per un rilancio e su questo è esposa la fondamentale allora credo che bisogna dire che forse per un anno spero solo un anno si facciano un po' di risparmi da quel punto di vista e che non si indica a penalizzare chi non può pagarsi il biglietto del tram o non può pagarsi il biglietto pubblico rimarranno l'esenzione per i disoccupati per le case integrate ecco quello resta ok per chi ha bisogno però potremo un po' graduare la gratuità a seconda veramente della situazione ma presidere dal trasporto pubblico hanno so anche le mense un po' tutto stiamo facendo adesso tutti i conti e poi prenderemo le decisioni una delle ipotesi che leggevo per risparmiare e tagliare le domeniche a spasso perché la domenica a spasso costa 250 mila euro tantissimo io pensavo non pensavo costasse così tanto e poi adesso ci sono tutte queste polemiche sulle domeniche a spasso quindi volevo capire se questa è un'altra ipotesi reale però bisogna un po' ridimensionare il costo significa che anche tener conto che la gratuità dei musei significa mancati incassi il biglietto che dura tutta la giornata significa mancati incassi o pagamento all'ATM del servizio in più il potenziamento dei mezzi pubblici si paga allora io credo che sulle a spasso su cui io credo ormai ci sia uno consenso maggioritario nella città e anzi a quanto mi risulta in continuo aumento non bisogna indietreggiare bisogna cercare di far nascere più iniziative spontanee nei zone nei quartieri in modo che sia lo stesso una giornata non educativa perché non vogliamo non vogliamo educare nessuno infatti su questo io non il fatto che il comune voglia educare io l'altro giorno ho detto educare con un'imposizione è un po' stalinista è un po' da stato etico da stato etico assolutamente no assolutamente no vogliamo creare le condizioni per permettere di conoscere meglio la città di vivere più gioiosamente la città e soprattutto in una situazione in cui c'è una programmazione non come avveniva prima per cui la domenica spasso era decisa il venerdì per la domenica certo adesso sono programmate la prossima il 12 maggio uno lo sa prima ha la possibilità sono alcune ore della domenica uno sa da quando partono quando finiscono e secondo me la cosa migliore è quella se uno vuole uscire da Milano si programma lo sa prima programma la propria giornata e però la gioia la felicità che io vedo in città quando c'è la domenica spasso le centinaia anche le migliaia di turisti che vengono a Milano basta andare a vedere in piazza del Duomo la domenica spasso si poi quando c'è la bella stagione sicuramente sicuramente non le dobbiamo eliminare dobbiamo trovare il modo perché quindi non le volete eliminare ok quindi questa è Fazio che l'ha colpita questo tweet che aveva mandato Fazio io rispetto le opinioni di tutti quindi Fazio per i suoi per motivi suoi che posso anche comprendere ma non è favorevole la domenica spasso il problema è che ogni scelta che fa il sindaco che fa la giunta che fa la scelta comunale trova coloro che sono favorevoli e coloro che sono liberi e fare un referendum come dice Carlo Monguzzi ma il referendum è già stato fatto il referendum è stato fatto nel 2011 era un referendum che riguardava complessivamente una nuova visione della città che riguardava la mobilità lo smog e all'interno di questo anche le domenica spasso non è il mio programma elettorale quindi io ho preso un impegno con i cittadini i cittadini hanno scelto me e io devo mantenerlo quindi lo esclude l'ipotesi del referendum di cui parla non di sì credo che sia inutile il referendum si fa per le cose che hanno una rilevanza determinante per la città tipo Aria C era giusto fare il referendum certo e il 90% no no ma infatti adesso su Aria C non è più in discussione a questo punto io credo che adesso uno dice i sondaggi ultimamente non hanno dato buona prova di sé però il sondaggio istituzionale quindi previsto dalla normativa che abbiamo fatto recentemente dice che oltre il 68% mi sembra adesso non mi ricordo esattamente e domenica spasso 63,6% 63% hanno detto sì l'hanno promossa però consideriamo che anche coloro che non hanno risposto e quindi di quelli che hanno risposto circa il 68% ha detto che favorevano ma soprattutto quello che emerge è che rispetto alle valutazioni e sondaggi fatti nel passato da altri è molto aumentato il consenso e del resto è una domenica al mese che chi fa scelte diverse provate però chi non è d'accordo provi ad andare in giro quella giornata no ma secondo me è ovvio che è bello io penso a chi ha dei problemi a chi ha magari non lo so un parente in ospedale che deve andare che deve prendere i mezzi ci mette di più deve pagare un taxi penso alle necessità che magari una persona può avere a prescindere dall'andare in bicicletta durante la giornata e passare la giornata all'aperto posso dire una cosa però forse ci sono anche questi problemi lì bisogna comunicare meglio che la possibilità di avere deroghe sono veramente notevoli quando c'è un'urgenza o addirittura quando c'è una particolare festa penso alle comunioni dei bambini in quel caso è previsto espressamente questo è buono spiegarlo ricordarlo poi non parliamo se c'è un'urgenza sanitaria o un'urgenza personale sicuramente l'ultima cosa sulle domeniche a spasso sul sondaggio visto che l'ha citato lei c'è l'ex vice sindaco decorato che si è scagliato contro sondaggio chissà contro tutto si scagna lo fa sempre è il suo lavoro l'opposizione dice che è costato troppo questo sondaggio abbiamo fatto un bando un bando quindi abbiamo fatto rispettato perfettamente come era naturale quando ha previsto la legge il bando l'ha vinto quello che ha chiesto di meno per quel tipo di sondaggio così l'assicuriamo decorato state tranquilli non solo decorato ma penso anche i cittadini perché poi la comunicazione spesso di fatti non corrispondente al vero nel momento in cui non hanno la possibilità di avere una risposta o una risposta che non raggiunge nessuno diventa realtà invece non è realtà no no beh infatti poi uno dà le valutazioni che vuole queste occasioni servono anche per spiegare queste cose va bene ci fermiamo c'è un po' di pubblicità e poi parliamo di molte altre cose di Milano e non solo a tra poco ciao ragazzi sono Mauro Valli da 20 anni macchine americane per passione per professione abbiamo selezionato un po' di auto per voi seguiteci Tibor d'anno 2003 introvabile 23.500 euro Shelby GT500 580 cavalli 44.000 euro Viper RT10 anno 2000 solo 9.000 km 39.000 euro SRT10 condizioni pari al nuovo 45.000 euro scopri il mondo Valli su ValliStore.com Visita il sito portale Pagine Blu Annunci Gratuiti Sito dedicato interamente agli annunci al mondo del lavoro per gli artigiani gli aziende i commercianti i libri professionisti e gli enti pubblici Nel sito Pagine Blu Annunci Gratuiti puoi scrivere annunci di lavoro trovare la dolce metà vendere e acquistare partecipare al concorso fotografico Cosa aspetti? Vai subito su Pagine Blu Annunci Gratuiti troverai tanti vantaggi per far decollare la tua attività Visita Pagine Blu e Annunci Gratuiti punto com SEMOTORS concessionario Nissan esclusiva per Monza e Brianza da 20 anni mi propone Nissan Juke a partire da 13.950 euro disponibile anche nelle versioni GPL con bonus fino a 3.000 euro venite SEMOTORS Monza Dimensione Bagno Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno la scelta giusta per il tuo bagno di qualità qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico funzionale e attento al design affidati a noi progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa offrendoti il miglior servizio che avevi in mano con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago in via in Audi 34 Se stai cercando un'auto scegli Volvo da Svezia Car guarda che prezzi XC70 km 0 vari allestimenti e colori da 38.200 euro XC90 km 0 vari allestimenti e colori da 40.100 euro XC60 km 0 vari allestimenti e colori da 26.990 euro Tutti i prezzi sono coniva esposta ma affrettati perché sono disponibili solo gli ultimi esemplari in pronta consegna Svezia Car la tua Volvo a Milano in via Kulischoff 6 e sul web sveziacar.it Diavolina Accendi Fuoco è un prodotto di facile utilizzo intuitivo e pratico risolve qualsiasi problema di accensione di fuochi in brevissimo tempo Diavolina Accendi Fuoco è il prodotto per il fuoco più venduto in Italia ideale per tutti coloro che posseggono camini o stufe e desiderano utilizzarli in modo sicuro ed efficiente Diavolina tutta la magia del fuoco prova anche Diavolina Accendi Fuoco doppia forza che con l'aggiunta di carbone vegetale garantisce una combustione più intensa e duratura Maquina l'ha detto che Bertoni è solo campeggio Bertoni ha uno stile di vita all'aria aperta guardate per gli zaini, qui non trovate un marchio li trovate tutti i migliori ci sono per l'escursionismo, per i viaggi per il trekking, lo zaino che cerchi è qua da Bertoni in Viale Fulvio Testi al 140 Cinisello Balsamo Da Jaguar Monza potrai trovare una vasta scelta di XF aziendali a partire dal 2011 tutte con i Vesposta a partire da 32.000 euro visita il nostro sito jaguarmonza.it è in Edicola Jesus il mensile leader di cultura e attualità religiosa che dà voce a ogni confessione cristiana e a tutte le fedi, in Italia e in ogni parte del mondo Jesus si fa interprete delle attese e degli interrogativi che attraversano la comunità ecclesiale e la società, rivolgendosi con uguale simpatia ai credenti e a chi non lo è più a chi dubita e a chi ha nostalgia della fede anche questo mese, con reportage inchieste, dossier e rubriche firmate da nomi autorevolissimi, Jesus dà spazio alla cronaca del credere confrontandosi con i grandi problemi degli uomini e delle donne del nostro tempo Autovilla Ford Partner per Milano Nord vi aspetta nello showroom di Viale Gramsci e nella sede storica di Viale Casiraghi a Sesto San Giovanni due grandi esposizioni per ammirare tutta la gamma delle autovetture e dei veicoli commerciali Ford ma da Autovilla troverai anche un vasto parco di autovetture usate ed aziendali di tutte le migliori marche del mercato tutte garantite e ai migliori prezzi da sempre Ford Autovilla è esperienza e serietà Autovilla in Viale Casiraghi 504 in Viale Gramsci 757 a Sesto San Giovanni Allora, rieccoci siamo sempre col sindaco di Milano Giuliano Pisapia stiamo facendo un po' una fotografia a 360 gradi di quello che accade nella nostra città altro elemento di polemica che chiaramente insomma devo tirarglieli fuori è quello dello sblocco del piano Roma piano Roma che era stato fatto da Maroni nel 2008 stanziati 13, quasi 14 milioni la Moratti ne aveva spesi 8 poi il Consiglio di Stato l'aveva bloccato adesso finalmente è stato sbloccato e ci sono 5 milioni erotti che il Comune può spendere chiariamo che questi soldi non sono stati messi dal Comune adesso a bilancio ma derivano dal piano Maroni cioè voi potreste utilizzarli in un altro modo? No Chiariamo questa cosa è molto chiaro c'è stato il Consiglio di Stato che ha cancellato la normativa che dava al Prefetto come Commissario straordinario il compito di gestire questa somma che era stata votata dal Governo Berlusconi per l'emergenza Roma il Consiglio di Stato ha detto che non c'era un'emergenza da Roma e quindi ha cancellato questo potere questi soldi 5 milioni di euro dello Stato non del Comune il Comune non ci mette nulla in questo quindi i soldi dei milanesi non vengono utilizzati per questo Ecco, gli chiedo subito io ho letto non mi ricordo su quale quotidiano che il Comune mette in più 300 mila euro il Comune mette in più 300 mila euro non sul Campi Roma su un'iniziativa che è quella dell'accoglienza in generale che è un elemento che in ogni caso sarebbe stato utilizzato quindi in più sono 300 mila euro per l'accoglienza chiariamo così ok invece questi 5 milioni erotti sono del Governo sono del Governo erano inutilizzati bloccati perché non si potevano utilizzare peraltro allora mi sono l'assessore Granelli con l'assessore Maiorino io mi sono attivato anche col Ministro degli Interni per sbloccare questi 5 milioni e utilizzarli per quelli per cui erano state a cui erano state destinati e quindi questa programmazione di utilizzo di questi 5 milioni è stata concordata con un protocollo dal Ministero degli Interni dalla Prefettura e dal Comune di Milano quindi ogni iniziativa di utilizzo di queste somme è decisa congiuntamente parallelamente e consensualmente da queste tre istituzioni e c'è l'allontanamento degli abusivi migliorare le strutture e integrazione questo è fondamentale nel passato gli 8 milioni che sono stati utilizzati dalla precedente giunta hanno determinato l'inizio di una riqualificazione di alcuni campi Rom che però non è terminata e poi di sì che sono state date le somme di denaro ai Rom che se ne andavano la Moratti aveva dato 15 mila euro per conoscenzi e poi la maggior parte di queste sono ritornate allora noi abbiamo pensato così come avevamo previsto che l'obiettivo è quello di chiudere campi Rom ma chiudere campi Rom in un programma di inserimento sociale e lavorativo allora queste somme saranno utilizzate per riqualificare alcuni campi Rom ma saranno pochissime perché la prospettiva è quella di tutte sono le villette queste villette che anche qui hanno polemizzato a delle villette più familiari piene di arredamento bellissimo spieghiamo nel momento in cui si vuole chiudere un campo Rom illegale ci sono due alternative o dai un'alternativa di assistenza alle famiglie Rom o queste vanno in un altro campo o creano un altro campo abusivo allora se gli si dà l'assistenza evidentemente significa avere dei posti dove accogliere così come abbiamo dei posti dove accogliere il senzatetto nel periodo del grande freddo li accogliamo però col patto che seguano un percorso di inserimento sociale e quindi mandando i bambini a scuola di ricerca professionale e soprattutto di ricerca di lavoro e aiuto di lavoro non dare lavoro aiuto dell'inserimento lavorativo in modo che si crei una situazione per cui non ci siano più campi per cui loro non girano da un campo all'altro una volta che si sgompera viene sgomperato un campo illegale sto parlando alla fine non si risolve si spostavano da un posto all'altro certo noi vogliamo creare una condizione per cui a Milano ci sia più sicurezza per cui non ci siano discriminazioni per cui coloro che vogliono e questi saranno aiutati inserirsi nella società lo possono fare e soprattutto vogliamo che non succeda più che per necessità viene un campo illegale dove ci sono famiglie intere tra cui bambini che pure vanno a scuola o che hanno bisogno di assistenza vengano scacciati senza dargli l'assistenza ma credo che questo sia un dovere da parte di un sindaco e oltretutto sia una modalità per risolvere una questione che deve essere risolta ma non si risolve spostandola da una parte all'altra ma dandole delle prospettive una prospettiva è il centro di Alombroso perché oggi il PDL ha organizzato un presidio per protestare contro appunto il centro di emergenza di Alombroso beh la prospettiva temporanea è anche quella significa che tutti quei campi oggi illegali vengono restituiti alla città e l'unico modo è quello di dare la possibilità di stare in un luogo a chi viene spostato dai luoghi però sarà temporaneo cioè se spostate qualcuno dal campo di via Martirano l'obiettivo è quello di avere uno o due campi di passaggio per i romi sinti che passano da Milano verso altre destinazioni e avere dei luoghi che possano essere luoghi dignitosi per chi vive che non creino problemi agli altri cittadini e soprattutto che portino a dare una prospettiva di futuro ai giovani e meno giovani in Roma che non creando anche le condizioni perché non continuino coloro che lo fanno a rubare ma quindi la prospettiva è di superare i campi Roma stanziali la prospettiva è di superare i campi Roma perché un consigliere della legale però voglio rivadire tutto questo recuperando soldi che erano stati bloccati dal consiglio di stato soldi dello stato destinati dal governo a questa penalità e a questo scopo senza dare una lira ai Rom ma dando una serie di prospettive e senza una lira spesa un euro spesa infatti l'ultima cosa sui Rom un consigliere della Lega Nord Morelli dice che sono raddoppiati i Rom da quando c'è la giunta Pisapia io non so se sono raddoppiati o sono diminuiti il problema è che una situazione generale di difficoltà sono raddoppiati purtroppo anche i poveri anche senza lavoro quindi non è che si raddoppiano le persone in una situazione di disagio aumentano i disagiati di disagio per cui anche chi aveva lavoro ad esempio quei Rom che avevano lavoro oggi non hanno più lavoro allora prima forse avevano un'abitazione oggi non hanno più un'abitazione questa è una spiegazione certo è un momento talmente difficile per cui tutte le situazioni difficili si trovano ancora in maggiore difficoltà proprio per questo è necessario non buttare via lasciare inutilizzati 5 milioni di euro che avevano quelle finalità no no certo se possono essere usati solo per quello assolutamente passiamo a Expo io vado rapida perché il tempo vola dovrebbe arrivare la legge speciale speriamo che che venga la sua proposta insieme a Maroni com'è lavorare con Maroni? guardi con Maroni abbiamo sembrate d'amore d'accordo quando vi vediamo degli incontri ufficiali si ma con Maroni abbiamo idee politiche completamente diverse questo è ovvio questo si capisce su temi rilevanti sui valori però innanzitutto io lo conosco da quando ero in Parlamento nei rapporti istituzionali Maroni è estremamente corretto nel senso non ha mai pensato all'interesse come ministro della sua parte politica del suo partito politico ma all'interesse generale e quindi c'è un rapporto di fiducia istituzionale che è diventato anche un rapporto di fiducia personale io so che io a lui dico le cose come stanno come è mia abitudine e lui a me dice le cose come stanno le cose in cui siamo in disaccordo ce lo diciamo apertamente non facciamo finta di essere d'accordo e poi ognuno fa il contrario di quello che dice e questo serve perché in questo momento abbiamo un interesse comune una volontà comune e cioè lui ha la volontà e l'interesse non personale ma diciamo politico generale di far sì che la Lombardia sia la regione del rilancio del paese sia la regione dove si risolvono i problemi e sa perfettamente che questo sarà possibile se Milano avrà lo stesso obiettivo e lo stesso percorso quindi su certi temi dobbiamo avere lo stesso io ho l'obiettivo di far sì che Milano ritorni ad essere o sia sempre di più quella città internazionale dove ci siano investimenti stranieri ci sia sviluppo ci sia possibilità di lavoro Expo è l'esempio diciamo esemplare di questa modalità né lui né io vogliamo posti vogliamo avere ruoli vogliamo avere possibilità di esposizione personale sì anche potere e forse qualche di un altro in passato non ha visto Expo così allora non è un caso che la prima volta senza neanche sentirci prima quando ci siamo visti prima che lui avesse l'incarico ufficiale ma era già non ci ha passato l'elezione tutti e due ci siamo detti ma io sono pronto a rinunciare al ruolo mio di commissario straordinario e lui eventualmente come commissario generale l'importante è che troviamo una persona che ecco chi è questa persona perché appunto se viene accettata la vostra proposta della legge speciale ci sarà un commissario unico posso rimandare siccome sono un po' scaramantico la mia discendenza napoletana finché il governo non approverà la norma che istituisce il commissario unico e prende una serie di altri provvedimenti che possano garantire quello che oggi è difficile ma è ancora possibile ma sarebbe garantito il successo di Expo 2015 preferiscono fare nomi mentre sul Presidente della Repubblica lei ha parlato ma poi gliene faccio un altro di nome poi una domanda sul nome ma quindi lei si trova meglio con Maroni che con Formigoni questo lo possiamo dire o non è politically correct no no non c'è nulla da fare dal punto di vista istituzionale e anche personale mi trovo meglio con lui del resto poi siccome poi ci sarebbe l'altra domanda quindi lo anticipo l'eventuale possibile domanda Formigoni per una serie di motivi e non voglio entrare nelle sue questioni giudiziare però con una giunta sempre di più vi erano assessori che avevano problemi con la giustizia certo in una situazione in cui la sua situazione personale dal punto di vista anche politico era sempre più difficile basta pensare alle regionali prima appoggia Albertini poi fa l'alleanza con la Lega che praticamente l'ha scaricato non aveva più quella capacità che ha avuto probabilmente in passato non voglio dare giudizi di gestire insieme una situazione così difficile come quella della regione in regione si erano creata una situazione dall'Aler che è veramente una situazione difficile altre questioni al tema della sanità in cui ogni giorno c'era uno scandalo non aveva più la possibilità di gestire quelle situazioni anche perché sulla sanità direttamente implicato e faccio il discorso dal punto di vista politico e non giudiziario no 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 certo non stiamo parlando di quello mi fanno segno che abbiamo ancora poco tempo l'ultimo argomento no volevo chiederle solo il salone del mobile è andato benissimo 2500 espositori qua tutti i numeri 300.000 visitatori ed è stato un momento in cui anche le imprese con squinzi hanno lanciato questo allarme fate presto poi volevo chiedere a lei questo sul fate presto un parere sul perché sul fate presto c'è stata questa spaccatura nel partito democratico dopo che Renzi ha detto anche lui fate presto Bersani si è offeso e da lì sono volati gli stracci lei non è del partito democratico quindi dà un giudizio esterno però insomma è il principale partito della sinistra italiana sì bisogna fare presto però bisogna vedere di chi è la responsabilità che non si sia fatto presto il presidente della repubblica napoletano valutando complessivamente le cariche esplorative i risultati di un carico esplorativo ha visto che non c'erano i presupposti per dare un incarico all'onorevole Bersani a questo punto è giusto che si faccia la norma del presidente della repubblica poi si faccia non presto ma prestissimo e soprattutto che ci sia un governo concretissimo perché questo è fondamentale che è quello che chiede anche Maroni tornando indietro ma quindi lei tra Renzi e Bersani chi sceglie se deve buttarne giù o dalla torre chi butta giù no non butto giù nessuno dalla torre non è mia abitudine io alle primarie ho votato Bersani pensavo e penso tuttora che fosse una persona capace di governare il paese coniugando equità e rilancio oltre che sobrietà chiaramente se Bersani non riuscirà a comporre un governo e avere la fiducia del Parlamento in questa situazione io credo che si debba fare da parte e a quel punto entrerà in campo con le primarie probabilmente Renzi e Barca le piace? Barca mi piace molto lo stimo moltissimo lo conosco abbastanza bene devo dire la verità che Barca è una persona che secondo me avrà la possibilità se vorrà se continuano di ricreare un partito che parli con le persone con la gente ma non sto parlando solo del PD anche Renzi parla con le persone no stavo dicendo Renzi invece ha più capacità di avere un ruolo nazionale non all'interno di un partito cioè come segretario del partito chiaramente all'interno del PD io spero che mantenga gli impegni di rimanere all'interno del PD di modificare veramente il rapporto dell'interno centro-sinistra con il paese quindi due ruoli diversi uno può puntare quindi Barca segretario e Renzi leader del centro-sinistra sì non so però se loro si sono mai parlati quindi non vorrei no perché io mi immagino già le primarie la sfida tra Barca e Renzi potrebbe anche andare così no? no non credo non credo per quello che conosco Barca non è persona che faccia una competizione da primarie per la Presidente del Consiglio lui è molto più interessato e credo che è anche più adatto per la sua cultura politica non doveva essere l'ultima domanda ma lo leggo adesso me l'ero dimenticato sarà una rimozione però io volevo sapere se ha più visto l'ex assessore alla cultura visto che parlavamo del Salone del Mobile avevo segnato Crocetta Boeri no l'ho visto venerdì scorso a un convegno agli stati generali del PD l'ho sentito parlare lui poi si è allontanato per come si è chiusa la vicenda lei non pensa che o lei o lui magari potevate fare qualche rimpianto semplificando no a me è dispiato noi abbiamo cercato per due anni e mezzo di limare tutte le problematiche che sono sorte che non hanno nulla di personale sia chiara assolutamente nulla probabilmente abbiamo due modi di lavorare diversi io ho un modo di lavorare collettivo lui è molto più personale lui ha avuto dei bellissimi progetti io sono sempre dell'idea che prima di lanciare i progetti le idee bisogna vedere se possono essere realizzabili è stato un po' troppo irruento sì e poi lo rispetto molto dal punto di vista professionale lo rispetto moltissimo dal punto di vista anche della visione politica però amministrare è un'altra cosa amministrare significa essere sul pezzo ogni giorno e lui farà la critica a me completamente diversa dicendo che io non ho visione però devo governare una città di un milione e trecento mila abitanti che fra poco sarà città metropolitana e quindi tre milioni di abitanti che significa dover ogni giorno risolvere ogni giorno decine di problemi grandi e piccoli quindi forse abbiamo una modalità di lavoro diverso va bene il tempo è volato vuol dire che siamo stati forse non lo so decideranno chi ci guarda se siamo stati bravi io la ringrazio tantissimo in bocca al lupo per il bilancio soprattutto in bocca al lupo a Milano esatto per il bilancio soprattutto per riguardo a tutti i cittadini e poi vabbè a lei per il suo lavoro lei sa che quando vuole tornare noi qui siamo sempre contenti di ospitarla allora arrivederci arrivederci al sindaco Pisa Pia grazie a tutti grazie a chi ci ha seguito l'appuntamento come al solito per venerdì prossimo alle 20 e 30 con un'altra puntata di Linea d'Ombra buonanotte diavolina tutta la magia del fuoco a chi no a chi no adobe a chi no a chi no Grazie per la visione!